Eccoci, 81esimo giorno di guerra, il nostro 81esimo speciale, è l'81esima volta che ci incontriamo alle 5 del pomeriggio, alle 5 della sera potrebbe dire qualcuno più colto, ma è una giornata che ci porta nuove nuvole, ci porta delle certezze, la Finlandia ha richiesto formalmente, si sapeva che l'avrebbe fatto oggi, lo ha fatto, di entrare nella Nato, la Nato formalmente attraverso il vertice dei ministri degli esteri ha detto si può fare, ma aspetterà ovviamente a tutte le nazioni attraverso gli organi di democrazia interna di deciderlo, compreso il Parlamento italiano, tanto per fare un esempio in maniera definitiva e questo verosimilmente riguarda anche domani la nuova richiesta che come sappiamo da giorni sarà fatta dalla Svezia, contemporaneamente la Russia fa sapere in tutti i modi che non sarà qualcosa di indolore e il fatto ulteriore è che la Nato potrebbe definire di qui in poi, ma sarà il vertice dei capi di Stato e di Governo della Nato a deciderlo, potrebbe definire la Russia non più partner, ma minaccia diretta nel documento strategico che sarà approvato appunto nel summit dei capi di Stato e di Governo dell'Alleanza che si svolge il mese prossimo a Madrid, certo questo fa capire il passaggio d'epoca, letteralmente di cui parliamo già da tanti giorni e poi ci sono le tante notizie dal campo e poi c'è quella notizia che irrompe sulla scena europea e anche russa e che è quella questione dell'Eurovisione, del festival della canzone europea, sapete che si è svolto fino a ieri sera a Torino, saprete immagino che l'ha vinto l'Ucraina con una scelta da parte dei paesi, delle giurie dei paesi, ma anche della giuria popolare soprattutto di chi ha potuto votare da casa, come si diceva una volta, che ha un sapore evidente politico, un grido di libertà, un grido di solidarietà per chi è stato invaso. Questo ha già, sta avendo e avrà contraccolpi e effetti secondari e non solo secondari politici e diplomatici internazionali, perché? Perché evidentemente è una scelta ingombrante, una scelta importante. E vediamo subito il cronologico, il servizio che mette insieme le notizie, visto che oggi è domenica e forse fino a quest'ora non vi siete sintonizzati con le notizie riguardanti la guerra. Lei è sintonizzato Fabri? Per forza, siamo qui, buonasera. Siamo qui per questo, buonasera. Siamo qui e sintonizzati. Vediamo. La prima notizia dell'ottantunesimo giorno di conflitto arriva da Torino e dell'ennesima dimostrazione di solidarietà internazionale nei confronti dell'Ucraina, giunta sotto forma di una balanga di voti popolari per la caluscia orchestra Televoto, che ha permesso alla band ucraina di stravincere l'Eurovision Song Contest. Un messaggio dal significato chiarissimo precedentemente invocato dallo stesso presidente Zelensky, che subito dopo il risultato promette che verrà fatto di tutto affinché la prossima edizione della manifestazione, che dovrà essere ospitata dal suo paese, si tenga a Mariupol. Aiutate l'Ucraina, aiutate Azov, sta allora, aveva urlato il gruppo al termine dell'esibizione, perché la realtà di Mariupol purtroppo rimane questa con ciò che resta dei difensori della città, se tagliato nei sotterranei dell'immensa acciaieria, che continua ad essere uno dei principali bersagli di un esercito russo, che per prenderla e avere così il completo controllo della città portuale sul Mardazov non smette di lanciare attacchi aerei e con l'artiglieria. Una situazione drammatica, con tutti i tentativi di negoziare una evacuazione anche solo dei molti feriti per il momento del tutto inefficace. In più, accusa su Twitter Petro Andriuschenko, consigliere del sindaco di Mariupol, postando questo video che lo dimostrerebbe parlando di Azovstal come di un inferno in terra, ieri gli occupanti avrebbero usato per la prima volta bombe incendiarie o al fosforo. Chi invece è riuscito a fuggire dall'incubo dell'assedio della città martire di questa guerra arriva lentamente a Zaporizia, dove oggi, dopo aver atteso per giorni il via libera delle truppe di occupazione, è giunto un convoglio di un centinaio di macchine con a bordo gli spollati. Mariupol dove, afferma sempre Andriuschenko, i russi potrebbero presto indire un referendum per sancirne l'annessione alla federazione. La guerra tuttavia continua a non andare per il verso auspicato da Mosca, tanto che, secondo quanto reso noto dall'intelligence britannica, è improbabile che nei prossimi 30 giorni l'esercito di Putin possa accelerare drasticamente il ritmo dell'avanzata, alla luce delle perdite subite valutate in un terzo delle forze impegnate a febbraio, del deterioramento della loro capacità ed efficacia di combattimento e del basso morale dei soldati. In ogni caso, in base a quanto riferito dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe si starebbero raggruppando per riprendere l'offensiva verso sud-est, dopo essere state costrette a ritirarsi dall'area di Kharkiv. Queste le immagini di un villaggio nei dintorni della seconda città del paese dove i soldati ucraini controllano casa per casa per verificare che non vi sia alcuna residua presenza di forze nemiche. Queste, invece, le forze di Kiev che combattono in prima linea. La situazione nel Donbass resta critica ma passo passo stiamo costringendo i nemici a lasciare la terra ucraina, dice il presidente Zelensky, il quale afferma anche di aver chiesto in un incontro con una delegazione di senatori statunitensi che la Russia venga ufficialmente dichiarata stato terrorista. E mentre i missili russi si abbattono ancora una volta anche sull'area di Leopoli colpendo un'infrastruttura militare, anche il territorio russo poco oltre il confine ucraino e precisamente il villaggio di Sereda sarebbe stato oggetto di bombardamenti da parte di Kiev, secondo quanto dichiarato alla TASS dal governatore della regione di Belgorod. Sul fronte diplomatico, la notizia del giorno non sta certo, invece in un qualche progresso fatto registrare i negoziati che restano congelati, ma nell'ufficialità di un processo che nell'ultima settimana ha subito l'accelerazione decisiva, quello relativo alla richiesta di adesione di Finlandia e Svezia alla NATO. Da Helsinki in tarda mattinata arriva infatti l'annuncio formale in una conferenza stampa congiunta del presidente Nienisto e della prima ministra Marin. Vogliamo entrare ufficialmente nell'alleanza atlantica per rafforzare la nostra sicurezza nazionale di fronte ad una minaccia, anche nucleare, che riteniamo molto seria. Ora manca solo il via libera, scontato, del Parlamento. Martedì, secondo i media svedesi, sarà invece Stoccolma, dopo che il governo domani avrà ufficialmente deciso in tal senso ad abbandonare il proprio tradizionale status di neutralità e a chiedere di fare il proprio ingresso nella NATO. Restano le perplessità della Turchia. Chi sostiene il terrorismo non può entrare nella NATO, dice il capo della diplomazia di Ankara, Ciavusoglu, al termine di un trilaterale con i suoi omologhi finlandese e svedese, riferendosi al fatto che i due paesi nordici ospitano membri del PKK, ritenuto dalla Turchia un'organizzazione terroristica. Nonostante questo, il segretario generale Stoltenberg si dice fiducioso in un accordo. Teatro di queste discussioni Berlino, sede della riunione dei ministri degli esteri dell'alleanza, più appunto quelli di Svezia e Finlandia, vertice che gravita intorno alla prossima adesione dei due paesi nordici e al proseguimento dello sforzo di sostegno militare all'Ucraina rappresentata dal ministro degli esteri Kulieva. Con il coraggio del popolo e dell'esercito ucraino e con il nostro aiuto Kiev può vincere questa guerra, dice il vice segretario generale della NATO Joanna. Vinceremo, ma solo se ci invierete altre armi, replica Kulieva, che ha anche un faccia a faccia con il segretario di stato americano Blinken. Abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto per garantire che le esportazioni alimentari ucraine raggiungano i consumatori in Africa e in Asia, scrive il capo della diplomazia ucraina, esprimendo gratitudine agli Stati Uniti per la loro leadership e il loro incrollabile sostegno. Allora Fabri, cominciamo subito a dire che in questa, no scusate, prima di cominciare a discutere sulle cose che abbiamo già sentito voglio salutare a Odessa, vedo è già collegata con noi, Paola Mascioli. Paola, com'è la domenica di Odessa? Cosa è successo per titoli? Sirene nella notte, apparente tranquillità durante la giornata, questo è il titolo che vi posso dare per ora. Però visto che sei andata, adesso detta così, visto che è domenica e la temperatura inclinata sei andata al mare, però non stiamo parlando di così. Non esattamente, no, tra l'altro la temperatura è anche di nuovo cambiata, esatto, no, siamo andati finalmente a vedere queste spiagge minate, queste immense spiagge, bellissime spiagge lungo la costa, dove non è possibile ovviamente andare perché sono state minate proprio per evitare qualsiasi idea di sbarco da parte russa sulle spiagge. Ecco, stiamo cominciando a vederle le immagini. E quindi, sì, ecco, quelle immagini sono state girate in una zona che si trova sotto il parco letterario dedicato al poeta nazionale Shevchenko, bellissimo parco con molti luoghi sia di divertimento che di cultura, ovviamente tutto chiuso e poi c'è un delfinario che è aperto. Scendendo verso sud invece ci sono locali sulla spiaggia, qualcuno è aperto, molti sono chiusi e tutta la costa, tutta la spiaggia è off limits perché appunto è stata minata. Quindi si trovano ovunque questi nastri rossi che si collegano ai cartelli con il classico simbolo del teschio che dice pericolomine. Ed è tutto questo per tutta la costa. Però questo non ha scoraggiato gli abitanti della città che si sono voluti comunque godere il sole di questa mattina. Li abbiamo visti in bicicletta, qualcuno stava a prendersi il sole sull'erba. Insomma c'era un po' di vita, un po' di movimento. Nonostante tutto, nonostante la scorsa notte appunto, forse pochi minuti dopo la proclamazione della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision è suonata la sirena qui sulla città. E poi di nuovo l'allarme è suonato. Però lì cosa è successo? Già che ci siamo, visto che l'hai citato, l'abbiamo già visto nel cronologico, tutti sanno di questa vicenda, di questa vittoria nel contest musicale che però non ha soltanto né soprattutto un significato musicale. Alzi la mano che sarebbe in grado di ripetere quella canzone, è evidente che era un pronunciamento anche e soprattutto di altro tipo di vicinanza. Ma lì cosa è successo? C'è stato come una vittoria sportiva della nazionale, come sappiamo noi in Italia, c'è stata un'esplosione oppure niente? No, intanto a quell'ora c'è il coprifuoco, quindi tutti chiusi in casa. Ovviamente però poi oggi c'era soddisfazione perché... Ma un po' era attesa però, anche perché la prima serata delle semifinali questo gruppo che ha una storia molto interessante, aveva avuto un'ovazione, una standing ovation del pubblico, quindi si era capito che erano tra i beneamini non solo del pubblico presente a Torino ma anche di tutti coloro che hanno votato poi in tutta Europa e non solo perché c'è anche l'Australia nell'Eurovision Song Contest. Ovviamente non c'è la Russia, anche questa è stata presa un po' come uno smacco ovviamente dalla Russia che ha... abbiamo visto quella fotografia in cui ci sono sui missili scritte le parole che sono state pronunciate dal gruppo. Questo gruppo ha sostituito un altro cantante che non ha potuto partecipare perché era stato in Crimea per un periodo quindi non aveva le possibilità di andare a cantare lì. È un gruppo che si è presentato praticamente alla fine, un mese e mezzo prima e hanno già detto di essere pronti a tornare a combattere di aver sofferto in questi giorni perché loro erano una città di pace dove c'era festa mentre le loro famiglie sono rimaste qui. E erano anche attivi, abbiamo visto poi le loro foto sui social, soprattutto il leader, quello con il cappellino rosa, era attivo con gruppi di volontariato che portavano aiuti sia alle persone che agli animali. Ho scoperchiato un vaso di mascioli perché ho capito che sai tutto su queste cose. Mi aveva incuriosito questa storia, sì decisamente. E soprattutto ho detto torniamo subito a casa e se servirà. Adesso dopo ne parliamo un po', abbiamo una pagina dedicata a questa vicenda che di per sé è una come un'altra, però entra molto anche per le reazioni, cioè la prima volta che una cosa dell'Eurofestia ovviamente viene commentata dalla Nato, dall'Unione Europea. Cioè è evidente che il significato oltrepassa di tantissimo il fatto in sé, non è che l'anno scorso avendo vinto i Maleskin... E anche il valore musicale del gruppo con massimo rispetto. Però un'altra cosa, già che ci siamo, poi ti prometto che ti faccio parlare perché ho capito che sei caldissima sull'Eurofestia, ma... No, ho finito, ho finito. Volevo notizie, scusa se ogni tanto anche parliamo di questo, volevamo sapere se sono notizie sulle vicende riguardanti ad esempio l'isola dei serpenti, le navi colpite oppure no. Da quel versante abbiamo novità? Sì, lo so. Sì, lo sai perché c'è questo video che però non è chiaro a quale dei tanti scontri e fuoco faccio riferimento. È un video diffuso da canali russi che mostra gli esiti di un tentativo di incursione da parte degli ucraini sull'isola dei serpenti. Si vedono dei corpi a terra, ovviamente con i volti offuscati, non riconoscibili, di soldati ucraini che sarebbero gli incursori che hanno fatto diversi tentativi di sbarcare sull'isola per riprenderne possesso e si vede anche un elicottero che viene abbattuto. Ora, gli ucraini sostengono che quell'elicottero è russo ed è stato abbattuto da loro, i russi sostengono il contrario. Fatto sta che è la prima volta che si vede un'immagine del genere, è stata diffusa su tutte le piattaforme con altre foto dell'isola satellitare in cui si vedono molto bene i vari punti, in cui si trova il cannone, in cui si trova la chiatta semiaffondata, in cui si trova la motovedetta. Insomma, c'è una sorta di scansione di tutto quello che c'è su questa piccola isola. Sicuramente rimane al centro dell'attenzione bellica e strategica di entrambe le parti perché attraverso il possesso e il controllo di quell'isola, si controlla il passaggio nel Mar Nero sia per le navi civili e commerciali che quelle belliche e non dimentichiamo che ci sono sempre le navi russe a largo nel Mar Nero e ci sarebbero anche dei sottomarini armati ciascuno con quattro missili. Questa è la situazione a largo. Poi a proposito di mine, tornando al discorso delle spiagge minate che vi abbiamo fatto vedere all'inizio, ieri avevamo chiuso il collegamento con la notizia che era stata ritrovata una di queste grandi mine che si mettono in mare. Ebbene, ieri sera poi sono arrivati dei messaggi sui canali telegram della città che avvertivano di non preoccuparsi se si fossero sentite delle esplosioni perché si stava facendo quello che loro chiamano pulizia, cioè far brillare tutta una serie di proiettili inesplosi, mine, eccetera, eccetera, periodicamente le fanno saltare e quindi si sentono queste esplosioni. Se ne sono sentite tre ieri sera, tra cui c'era anche quella famosa mina, quella che sembra quella dei cartoni animati, quella tonda, con tutti degli strani, non so come si chiamano, cose che spuntano. Sembra proprio quella dei sottotitoli. Si è capito. Ebbene, ce ne sono tantissime in mare di quelle cose lì. E i russi dicono che le hanno messe gli ucraini. Anche lì c'è un rimpallo di responsabilità. Anche quelle bloccano il passaggio delle navi, tra l'altro. Fabri, abbiamo parlato più volte, abbiamo parlato più volte, Fabri, di questa isola dei serpenti che non è soltanto, come dire, come succede in tanti conflitti, un punto simbolico. Ha in realtà un ruolo strategico. Qui vediamo la fotografia dall'alto, la fotografia forse di un drone, più che satellitare, perché è piuttosto ravvicinata. Ma se vediamo la cartina in cui è evidenziata, ecco la lì, la vediamo in basso, e si capisce bene come è il punto di ingresso nelle acque di fatto, delle acque ucraine, nel Mar Nero. L'isola dei serpenti è un po' un checkpoint in acqua. Esatto, è il motivo per cui già nelle primissime ore della guerra i russi l'hanno conquistata. perché può fungere da trampolino, da piattaforma per uno sbarco anfibio verso la costa, come evidente. E da quando i russi hanno imparato che navigare troppo vicino alla costa ucraina può essere assai pericoloso per le loro navi, visto quanto è successo finora, questa isola che già era così importante perché è presa subito per evitare che potessero arrivare approvvigionamenti di qualsiasi tipo alla costa ucraina, sia militari che non. Con l'affondamento delle navi, quindi con la comprensione da parte russa di quanto sia rischioso operare così vicino alla terra, questo scoglio, perché poco più di uno scoglio, è diventato ancora più rilevante. Ed è poi la ragione per cui gli ucraini nelle ultime ore, gli ultimi giorni hanno provato a riprenderlo. Sono stati respinti, finora mi hanno detto la battaglia non è finita, proseguirà finché non avremo ripreso l'isola dei Serpenti, laddove peraltro proprio la Moskva era stata protagonista, nave sfortunata per eccellenza in questa guerra, visto che se l'ha anche discretamente cercata, che passando davanti all'isola dei Serpenti, le prime ore subì, lei ricorderà molto bene quel gestaccio molto famoso, insomma, del dito... Immortalato dal franco bordo. Del famoso dito medio, eccetera, da parte dei militari ucranici che poi si sono arresi in quell'occasione alla presa russa, però è un punto non solo d'appoggio, è un vero e proprio trampolino verso la costa. Oggi più di ieri per l'assenza, non totale, ma per la maggiore cautela nell'operare con le navi così vicino alla costa, quindi è davvero un punto rilevante. Gli ucraniani vogliono riprenderselo perché attraverso quel controllo, ad esempio, potrebbero aprirsi un varco ed esportare il grano, di cui tanto Palamascioli giustamente ha parlato, che adesso giace così inutilmente nei silos locali. Già, sul grano, già che ci siamo, possiamo aggiungere qualcosa? Ci sono novità? In questa domenica particolare, che tutto sembra meno che appunto il giorno del signore del riposo per tutti. Guarda, c'è un dato in più rispetto a quello che abbiamo detto sempre negli scorsi giorni e che riguarda il grano che sarebbe stato trafugato dai russi. Secondo il Ministro dell'Agricoltura, almeno mezzo milione di tonnellate di grano è stato trafugato, rubato e portato via dalle truppe d'occupazione russa e la denuncia che avevano fatto anche gli ucraini nei giorni scorsi aveva a che fare con il fatto che buona parte di questo grano era stato mandato in Siria come compensazione per la partecipazione di alcuni piccoli gruppi di mercenari che erano venuti a combattere qui. O in ogni caso, lì c'è il porto di Tartus in Siria, porto sul Mediterraneo dove la Russia ha già da tempo posizionato parte delle sue navi, quello è stato il vero premio per il sostegno ad Assad, una base navale nel Mediterraneo e sicuramente lì erano arrivate delle navi con del grano. Questo è il dato, è abbastanza impressionante, mezzo milione di tonnellate di grano trafugato, oltre a tutto quello che resta nei silos, nei container bloccato che ancora non è stata trovata la soluzione, sappiamo che ci sono delle trattative in corso, delle pressioni diplomatiche molto importanti, che Zelensky è tornato a dire fate pressione perché altrimenti si va incontro ad una crisi globale, a una crisi importante per i paesi più poveri, quelli che hanno bisogno del grano che viene portato soprattutto dalle agenzie internazionali delle Nazioni Unite, dalle ONG, ecco quelli resteranno senza grano ma poi anche l'Ucraina rischia di rimanere senza grano. Tra l'altro l'Ucraina è di nuovo, ci sono stati un po' di giorni in cui la benzina era tornata ma è di nuovo a secco, praticamente ieri la Ministra aveva detto c'è benzina per cinque giorni e il diesel per tre, oggi abbiamo capito che non ce n'è più neanche per quattro giorni perché quasi tutte le stazioni distributori sono chiusi e quei pochi che li hanno hanno delle file incredibili, bisogna avere o una tessera o un'applicazione comunque razionata e le autorità hanno deciso che è più importante conservare i carburanti che non arriveranno attraverso nuovi canali se non alla fine del mese, conservare questi carburanti sia per i mezzi militari che per i mezzi agricoli e per coloro che devono spostarsi per questioni di sicurezza nazionale a questo punto piuttosto che riaprire distributori per consentire poi le persone di fare il pieno alla macchina o quantomeno di mettere quei 20 o 30 litri a seconda dei periodi, questo è un altro aspetto abbastanza pesante per la vita delle persone qui. Allora grazie Paola Mascioli, prossimi capitoli subito dopo la pubblicità perché tra poco dopo la prima mezz'ora andiamo in pubblicità come facciamo appunto due volte all'ora, prossimi capitoli sono ovviamente l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, oggi l'ufficializzazione della Finlandia, domani quella della Svezia, tra l'altro il principale partito di governo pochi minuti fa ha approvato la candidatura, quindi è ufficiale anche per domani la richiesta formale della Svezia, vedremo come se ne è parlato al vertice dei ministri degli esteri della Nato, sentiremo Stoltenberg, sentiremo Blinken e poi capitolo successivo, quello che è successo con la vittoria dell'Ucraina al Eurovision Song Festival perché questo veramente ha generato riflessi e reazioni politiche di prima grandezza, ci fermiamo. Eccoci, allora Fabri è evidente che noi da tre giorni, forse quattro addirittura, diciamo che questa cosa, tre giorni, questa cosa della Finlandia, questa decisione della Finlandia e della Svezia è di grandissima importanza, è con ogni probabilità uno dei fatti principali, se non il fatto principale di questi 81 giorni di guerra, è quello che sposta in maniera visibile, percepibile gli equilibri mondiali, perché un conto è dire che queste cose si spostano in equilibrio e sembra qualcosa di impalpabile, questo è un fatto ben visibile, due importanti nazioni da cui importanza si chiarisce ancora di più guardando la carta geografica, ma ancora di più conoscendone la storia, la tradizione di indipendenza, neutralità e a volte equidistanza nel caso della Finlandia dai blocchi, queste due nazioni decidono di andare da una parte ben precisa, che è quella opposta a chi sta lungo un confine interminabile accanto alla Finlandia, questo sposta la geografia politica di un intero continente e non soltanto. Ecco confermata dalla TASS in questo momento la notizia che vi ho dato subito prima di andare in pubblicità, il ministro degli esteri svedese Han Linde ha dichiarato che il partito dei lavoratori socialdemocratici al governo svedese ha sostenuto l'adesione del paese alla Nato e questo l'elemento in più, oltre a quello che stiamo per vedere. Cosa è successo oggi? La Finlandia ha deciso di chiedere l'adesione alla Nato, è un giorno storico, una nuova era si apre. È mezzogiorno a Helsinki quando il presidente finlandese Sauli Ninisto e la premier Sanna Marin ufficializzano ciò che si discute da tempo, l'adesione della Finlandia al patto atlantico. Lo fanno perché nel frattempo da Berlino, dove è in corso la riunione informale dei ministri degli esteri della Nato, arrivano rassicurazioni circa la paventata opposizione della Turchia, proclamata a parole, ma evidentemente nei fatti disinnescata o quantomeno con ottime probabilità che lo sia a breve. Non c'è arrivata nessuna indicazione dalla Nato che ci saranno problemi, dice infatti Sanna Marin che conferma inoltre di prendere molto seriamente la minaccia nucleare di Mosca e di aver dunque scelto l'ingresso nella Nato proprio nella convinzione che questa opzione rafforzi più che indebolisca il suo paese. Anche se, ammetterà poi in un'intervista più tardi il presidente Ninisto, in realtà dalla Russia non è mai arrivata una minaccia diretta, il che non significa che si possa rimanere neutrali. Il 24 febbraio la Russia ha mostrato di essere pronta ad attaccare un paese indipendente, impossibile fidarsi. E dunque Nato sia. Manca ancora il voto del Parlamento, ma la strada è tracciata, mentre il martedì dovrebbe essere la volta della Svezia. Il dibattito è stato costruttivo. La decisione di entrare nella Nato da parte di Svezia e Finlandia è stata presa da loro. Sarebbe un momento storico e aumenterebbe la nostra capacità di difesa. Con la loro adesione la Nato sarebbe più forte. In remoto da Bruxelles, causa Covid, arriva la conferma del segretario generale della Nato Stoltenberg, che a sua volta rassicura su quello che a prima vista sembrava un veto difficile da superare e ora appare sostanzialmente ridimensionato. La Turchia ha delle preoccupazioni e, come faccio sempre, ci confronteremo. Sono sicuro che troveremo terreno comune per l'adesione di Finlandia e Svezia, perché tutti gli alleati sono per la politica delle porte aperte. Accelereremo il processo di adesione il più possibile e, in attesa che venga ratificato, rafforzeremo la sicurezza e la nostra presenza nelle regioni di Finlandia e Svezia. Che le cose si sarebbero messe per il meglio del resto lo si era capito già da ieri sera. Non uno dei vari ministri intervenuti aveva espresso contrarietà, anzi, e oggi, un politico di lungo corso come il lussemburghese Hasselborn ha riassunto così la questione. La politica è un po' teatro, qualche volta è un po' come un bazar, bisogna trattare fino alla fine, ma poi le cose riescono. Già, ma cosa volevano, cosa vogliono i turchi e cosa verrà loro concesso? Ufficialmente il problema, come è noto, è l'aiuto che i due paesi forniscono a quelli che per Ankara sono terroristi, ovvero membri del PKK e dello YAPG. È per questo che i tre ministri degli esteri, turco, finlandese e svedese, si sono visti a margine del vertice. La Svezia è stata poco costruttiva, ha detto il turco Shavusoglu, mentre la Finlandia siamo stata più cauta. E insomma, bisogna che i due paesi però interrompano il sostegno al PKK, ma non basta. Devono eliminare i limiti alle licenze di esportazione di armi verso la Turchia, perché poi, più di tutto, contano gli affari. È così, Fabri? Beh no, perché non sono affari. Non è che la Turchia coppa le armi per rivenderle, conta la parte militare strategica, questo sì, quindi capisco il senso ovviamente del servizio, è corretto, cioè quando viene detto che tutto è negoziabile, dà certamente ragione, però non è soltanto una questione di affari. E i turchi sono famosi per essere grandi negoziatori, non solo in diplomazia. Però gli armamenti servono loro... Però gli armamenti sono alla seria, come si vede sul terreno ucraino. Serebbero loro per utilizzarli, però come diceva Tiziana Fratello, in questo caso è così, cioè nel senso, poi tutto è negoziabile, specialmente quando c'è di mezzo la Turchia e ieri si sono visti a margine proprio per parlarne, probabilmente, anche questo è stato detto nel servizio, si arriverà ad un accordo perché comunque tirano la corda, ma per avere qualcosa in cambio, per intenderci, e questo succederà. Il punto è stabilire se c'è anche qualcos'altro, se è soltanto questo o la Turchia possa chiedere anche qualcos'altro agli americani, perché non è che tratta con svedesi e finlandesi, perché ricordiamoci sono ancora fuori dalla Nato. Sicuramente sta parlando con gli americani e agli americani non può chiedere quello che sta chiedendo a Helsinki e Stoccolma, ai quali sta chiedendo qualcos'altro. Cioè sta chiedendo un aiuto su un dossier medio orientale, su un dossier libico, questo non lo possiamo sapere fino in fondo, ma qualcosa è possibile al riguardo. L'ultimissimo passaggio, quello sulla parte storica, il capo di Stato finico diceva che un giorno storico si apre una nuova era, la Finlandia è neutrale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Svezia è neutrale dal 1809, anche perché lei diceva giustamente sembra una cosa lontana, ma basta vedere la carta geografica per capire quanto è concreta, quanto è terrena e quanto è vicina. Ma per dare ancora un'idea di quanto è storica, insomma sono più di 200 anni che la Svezia è neutrale, non solo, è neutrale perché perse malamente una guerra con la Russia, la guerra di Finlandia nel 1808-1809, quando la Finlandia fu ceduta all'impero zarista. La Svezia finisce la sua parabola da grande potenza sempre per mano russa, un secolo prima l'aveva finita a Poltava come capacità di invadere il continente, un secolo dopo la perde del tutto ogni sua velleità di potenza, ancora una volta umiliata dalla Russia nella guerra di Finlandia quando perde la sua colonia per eccellenza, cioè la Finlandia, questi due paesi, uno era colonia dell'altro, non era pena ricordarlo, per mano della Russia. Da allora, eramo nelle guerre napoleoniche, da allora la grave sconfitta subita dalla Svezia, la Consiglia, le suggerisce di essere neutrale. I neutrali sono stati i grandi dirigenti svedesi delle organizzazioni internazionali, per questo è stata creata una grande leva di dirigenti dell'ONU e non soltanto svedesi, garanzia proprio da quel paese. Esattamente. Ma a questo punto, guardando anche la cartina, magari una cartina italiana se ce l'abbiamo, si vede che si crea una situazione, si va a creare una situazione, questo è evidente. Ecco, qui vediamo però, là dentro abbiamo Helsinki, la vedete, sotto Helsinki, praticamente subito sotto il braccio di mare, dove c'è scritto Estonia, c'è ovviamente l'Estonia, ma proprio sul mare c'è Tallinn, che guarda Helsinki, ma sulla destra, nella parte destra di quel braccio di mare, c'è San Pietroburgo, cioè noi lì stiamo vedendo la zona che a questo punto diventa la più scottante dal punto di vista strategico. Subito sotto la Lituania, coperta, c'è la famosa zona russa, la ex clave fuori dal territorio russo di Kaliningrad e quei punti, dove ci sono le tre Repubbliche Baltiche e adesso la Finlandia, tutta zona Nato sostanzialmente diventa, con la Svezia, quelle zone diventano strategicamente forse tra le più importanti del continente. Lo sono sempre stato adesso ancora di più, perché facendo proprio un calcolo molto semplice, San Pietroburgo è esattamente dove diceva lei, prima per uscire di casa, i russi avevano certamente sul lato sinistro, per capirci, quindi sul lato occidentale, sud-occidentale, le tre Repubbliche Baltiche Nato, ma sul lato destro, quindi sul lato nord-orientale, avevano la Finlandia e poi la Svezia, che erano paesi teoricamente neutrali anche qui. Tendiamoci, la Svezia non è un paese neutrale di fatto già da molti decenni, da quando ha firmato anche accordi in senso militare con l'Occidente e l'Unione Europea in particolare, la Finlandia da sempre o quasi, comunque inclina verso l'Occidente, però almeno formalmente aveva sulla destra due paesi neutrali e adesso non ci sono più, quindi è completamente circondata la città più europea, una delle due capitali classiche della Russia, coperta circondata da paesi Nato. Questo dà l'idea di quanto possa essere importante un ingresso di Helsinki a Stoccolma nell'Alleanza Atlantica. Non è per niente un ingresso banale, i turchi lo sanno molto bene e per questo vogliono farsi dare qualcosa in cambio, altrimenti rompono le scatole fino a dopodomani. Ricordo quello che ha ricordato lei già nei giorni scorsi a più riprese e hanno ricordato soprattutto i diretti interessati, è vero che Finlandia e Svezia guardavano Occidente da sempre e chiunque conosca anche soltanto le capitali di quei due paesi sa che sono occidentalissime, di più non sarebbe pensabile, ma è anche vero che sin quando, e non è così ancora oggi, nonostante quello che è stato detto di rassicurazione dalla Finlandia, fino a quando non saranno della Nato e per tutto il periodo che non sono state della Nato in realtà erano sotto una spada di Damocle, non potevano muoversi perché la Russia l'avrebbe potuto attaccare senza difesa da parte di qualcuno. Dall'ingresso della Nato è automatico che la Russia non può fare nessun atto stile, si ritroverebbe l'intera... Nato contro. Tutta la Nato contro, che vuol dire tutti quelli che si affacciano lì su quel gruppo. Ma vuol dire anche noi? Noi, vuol dire anche l'Italia. Perché se fosse invocato l'articolo 5 del trattato, l'Italia stessa dovrebbe, per essere molto chiari per chi ci ascolta, è obbligatorio partecipare della difesa di Finlandia e Svezia qualora fossero dentro la Nato, per questo, per essere ancora più crudi, se la Russia ha intenzione di attaccare i due paesi deve farlo adesso, esattamente da oggi in poi, specialmente nei confronti della Finlandia, finora soltanto la Finlandia ha formalmente annunciato la sua volontà di adesione, la Svezia l'ha lasciato intendere, dovrebbe arrivare nelle prossime ore, se deve attaccare i due soggetti la Russia deve farlo adesso ed è per questa ragione che la Gran Bretagna ha stabilito di difenderle anche durante questa finestra ed è per questa ragione che c'è grande attesa. Il capo di Stato, il presidente finlandese, ha detto ho parlato con Putin, veniva ricordato anche nel servizio, il tono è stato secco ma senza minacce. Dice che Putin non ha avanzato minacce ai suoi confronti ma ha definito un errore strategico alla scelta di Helsinki. Staremmo a vedere. Allora diventa importantissimo per quello che abbiamo detto e anche per ciò di cui abbiamo trattato riguardo alla situazione della Turchia sentire cosa dice il governo americano, cosa dice l'amministrazione di Washington, cosa dice il segretario di Stato americano Blinken. Vediamo. Buon pomeriggio. È un grande piacere essere di nuovo in Europa per andare avanti con il coordinamento con gli alleati e i partner su alcune questioni particolarmente urgenti che riguardano i nostri paesi e comincia con il summit, con gli incontri in Nato. Vorrei ringraziare il segretario generale Stoltenberg per la sua leadership e il vice segretario generale e il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock per aver preso questa iniziativa, per aver convenuto in questo incontro informale ma molto produttivo, molto proficuo. I 30 alleati Nato sono fermamente impegnati a favore di un'Ucraina indipendente, sovrana e democratica. La resilienza del popolo ucraino negli ultimi tre mesi ha dimostrato quanto sia unita la Nato. Il presidente Putin ha lanciato una guerra brutale senza essere provocato, pensando di poter dividere l'Ucraina e dividere la Nato e invece ha solo rafforzato l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina, visto che hanno respinto i russi da Kiev. La Nato è ancora più forte, è ancora più capace, più unita che mai. Ogni Stato membro dell'alleanza vuole porre fine alla guerra il prima possibile, ma siamo determinati nel continuare a sostenere l'Ucraina, di andare avanti con le sanzioni, di mettere pressioni sulla Russia per quanto sarà necessario. Gli Stati Uniti e gli alleati partner sono focalizzati sul dare l'Ucraina sostegno sul campo di battaglia al tavolo dei negoziati affinché possano respingere l'aggressione russa e difendere la propria indipendenza e sovranità. C'è stata una risposta transatlantica molto robusta, oltre 6 milioni di ucraini sono fuggiti dal loro paese, sono stati accolti in altri paesi alleati, in altri paesi europei e dell'Atlantico. Stiamo stanziando fondi per garantire servizi essenziali. I nostri paesi stanno anche collaborando per affrontare alcune delle questioni più generali come ad esempio la crisi alimentare, la carenza di cibo e l'Ucraina fornisce olio di semi di girasole, cereali, grano e la Russia sta distruggendo i terreni coltivabili. Questo è un duro colpo all'economia ucraina e è anche pensato in modo tale da generare danni anche nel resto del mondo. Più tardi questa settimana a New York ci sarà una sessione d'emergenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU per capire quali passi prendere per affrontare le sfide urgenti che riguardano la sicurezza alimentare e al contempo vedremo anche risposte per il medio termine. Non sappiamo come andrà avanti il resto della guerra ma sappiamo che un'Ucraina indipendente sovrana andrà avanti e sappiamo che questo andrà a sostenere anche i principi di sovranità che sono importanti a livello globale. I nostri partner ci sono stati diversi sforzi diplomatici, abbiamo riaperto l'ambasciata a Kiev, ci sono le dovute precauzioni e sarà tutto operativo al più presto. Il Presidente Biden di recente ha nominato Bridget Brink come prossima ambasciatrice americana in Ucraina, ha grande esperienza e il Senato presto la proverà così come abbiamo provato questi altri 40 miliardi di aiuti per garantire aiuto all'Ucraina. Ho incontrato il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba, il nostro dialogo va avanti da parecchio tempo, ci parliamo per telefono, ci parliamo di persona e ho ribadito il nostro impegno, il nostro sostegno solido nei confronti dell'Ucraina che andrà avanti. Gli alleati si sono incontrati qui a Berlino anche con i Ministri degli Esteri di Svezia e Finlandia che sono partner Nato e gli Stati Uniti sono a favore della domanda di adesione da parte di Svezia o Finlandia, se dovessero decidere di entrare. Noi rispetteremo qualsiasi decisione prenderanno, abbiamo sempre sostenuto la politica della Nato, la politica di porte aperte affinché tutti i paesi possano decidere il loro futuro, circa le politiche che devono adottare. Qui a Berlino abbiamo anche gettato le fondamenta per il prossimo vertice Nato di Madrid e vedremo come l'alleanza rafforzerà la sicurezza transatlantica in seguito all'aggressione di Putin e anche tenendo conto di possibili altre minacce e continueremo a fare gli sforzi per rafforzare il fianco orientale. Ci saranno partecipi con l'Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda che saranno tutti rappresentati a Madrid. Infine il prossimo incontro ci sarà a Parigi per l'incontro tecnologico tra Unione Europea e Stati Uniti. Ci sono delle economie particolarmente importanti che ricorrono alle tecnologie che possono garantire risultati importanti. Stiamo cercando di redigere le regole che possono poi andare a vedere i controlli sulle esportazioni e tutto in modo tale che si possano favorire le nostre società, le nostre imprese, i nostri lavoratori. Il TTC riguarda anche il limite delle esportazioni alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina e a Parigi andremo in maggior dettaglio in questo importante partnership tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Allora, questo così parlò, è il caso di dire Blinken, Anthony Blinken, rassicurando sicuramente anche la Turchia, esponendo gli Stati Uniti a un ruolo certo che non disconosce il fatto di essere azionisti relativamente di maggioranza della Nato, ma che parla della Nato comunque è come di una comunità militare, chiamiamola così, in cui tutti hanno il capitolo e il ruolo e che adesso è molto importante mantenere come tale. Beh, giusto, insomma, non si dice mai il contrario, evidentemente. Anche quando lo si pensa, non è questo il caso, però... Sì, certo, ma non sarebbe grammaticalmente corretto con quegli Stati Uniti, questo era poi l'intervento di Blinken, al di là di dichiarazioni di circostanza come possono essere queste, l'intervento degli americani era quello di segnalare ai turchi o anche a chi avesse qualche riserva che Washington è oltremodo favorevole all'ingresso di svedesi e finlandesi nella Nato, a questo serviva, a segnalare come questo è un passaggio molto importante che la Russia deve accettare, per questo Blinken è intervenuto, tutto il resto ciò che riguarda il protocollo, come sempre, in condizioni geopolitiche e strategiche, il protocollo ha un valore estremamente relativo, se non nullo, quindi ciò che ha voluto il segretario di Stato comunicare è quanto gli americani tengano a questo passaggio. Sentiamo cosa ha detto il nostro ministro degli esteri, che ovviamente è stato della partita a Berlino, ed è la posizione italiana. Le posso dire che tutti i paesi, anche la Turchia in linea di principio, sono d'accordo con il principio delle porte aperte a Finlandia e Svezia, poi la Turchia sta cercando in queste ore, nel dialogo con Finlandia e Svezia, di negoziare alcune questioni bilaterali chiedendo delle garanzie, ma il principio generale è che ci sono due paesi, Finlandia e Svezia, che prima che Putin invadesse l'Ucraina avevano un'opinione pubblica che non era in maggioranza a favore dell'ingresso nella Nato. Adesso quella stessa opinione pubblica vuole difendersi e vuole entrare in un'alleanza difensiva, la più importante che c'è al mondo, che è la Nato. Noi chi siamo, per dire di no, a dei paesi che tra l'altro hanno già tutti gli standard, non è che devono fare delle riforme per entrarvi, tant'è vero che io mi aspetto nella prossima settimana un'accelerazione in questo processo di allargamento a Svezia e Finlandia che rappresenterà un rafforzamento di tutta la nostra alleanza difensiva. Un'accelerazione in termini di tempi o un'accelerazione in termini di altri paesi? No, 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 io sto parlando di Svezia e Finlandia, di nessun altro paese, mi aspetto un'accelerazione perché in questo momento c'è una volontà quasi unanime di fare in modo che Finlandia e Svezia entrino il prima possibile, anche la Turchia, insomma, nelle dichiarazioni che vedete del ministro Ciausoglu di queste ore, perché noi siamo appena siamo a Berlino, abbiamo appena finito la riunione. Vuole una trattativa sull'ospitalità a quelle che loro considerano terroristi, no? Ma c'è un tema bilaterale, non c'è un tema per cui la Turchia mette un veto alla linea di principio per cui la Nato è aperta a paesi amici come Finlandia e Svezia. Deve far riflettere il fatto, noi lo diamo molto per scontato, che ci siano dei paesi in questo momento della storia che vogliono entrare in un'alleanza in cui noi siamo da tantissimo tempo, in un momento in cui per via dell'atteggiamento, dell'invasione della Russia in Ucraina, qualcuno si sente minacciato e si sente più al sicuro sotto l'ombrello della Nato. Guardi, noi abbiamo sempre, e questa è una, diciamo, tesi e posizioni condivise da tutti, noi dobbiamo sempre tenere aperto un canale con Mosca. Lo ha fatto anche il segretario alla difesa statunitense in questi giorni, subito dopo la visita del presidente Draghi a Washington con il suo omologo russo. Con la Russia il canale di dialogo va tenuto aperto perché l'unica vera preoccupazione che si è avvertita sia nella riunione Nato di questi due giorni, sia nelle riunioni G7 che si sono tenute nei giorni precedenti, sempre qui in Germania, a cui ho partecipato, è per il popolo ucraino e per l'Ucraina, perché questa guerra noi dobbiamo fare in modo che finisca il prima possibile. Siamo tutti d'accordo nella Nato che la Nato non deve farsi coinvolgere in questa guerra direttamente e non ci deve essere neanche la percezione che la Nato come istituzione, come alleanza difensiva, sia coinvolta direttamente. Questo perché? Perché non vogliamo una guerra mondiale e vogliamo fare in modo che vinca il negoziato e la diplomazia. Contestualmente, ovviamente, se ci sono dei paesi che hanno il timore di stare fuori dall'alleanza Nato e entrando ci si sentono più al sicuro, la salutiamo questa svolta storica che è anche un risultato che ha prodotto l'invasione di Putin in Ucraina. Ricordiamoci che quell'invasione nasceva da una retorica contro la Nato e adesso abbiamo una Nato più forte con due paesi più. Sicuramente la Nato analizza tanti scenari e ovviamente si analizza anche per esempio il timore per l'uso di armi chimiche che sarebbe non solo inaccettabile ma sarebbe anche un crimine contro l'umanità. La Nato è quella che in questo momento tutti i paesi Nato, ma anche i paesi europei, i paesi del G7 chiedono di accertare i crimini di guerra che si sono compiuti in Ucraina negli ultimi mesi, in questi 80 giorni di folle guerra, ma tutti i paesi della Nato comunque per quanto sappiamo che questa guerra c'è il rischio che possa durare anche più di un anno e possa avere dei tempi veramente lunghi, tutti siamo comunque impegnati nel cercare di trovare una soluzione pacifica e diplomatica a questa crisi, che è una crisi che poi è già una guerra mondiale dal punto di vista del tema dei prezzi e della sicurezza alimentare. Ecco, un tema che torna spesso, è tornato sempre in tutte le riunioni in questi giorni, è la food security, la sicurezza alimentare, perché questa guerra sul mercato globale è già una guerra mondiale, una guerra mondiale del pane che sta producendo anche nei paesi che non hanno messo sanzioni l'incremento di prezzi. Così parlò Luigi Di Maio, mezz'ora in più la trasmissione di Lucia annunziata su Rai 3, la posizione italiana è molto chiara e Di Maio molto netto in questa fase su posizioni non certo ambigue diciamo. Tre passaggi molto importanti devo dire in queste parole il ministro degli esteri, il primo passaggio quando dice, devo dire con una sofisticazione non male, non esiste un veto turco all'ingresso di svedesi e finlandesi nella Nato, perché non c'è una differenza di principio tra noi e la Turchia. Anche la Turchia, lascia dire implicitamente, è favorevole per principio. Ci sono problemi bilaterali, dice Di Maio, tra Ancara, Helsinki e Stoccolma, cioè rispettivamente sull'asse dei rapporti bilaterali. E questo è un passaggio interessante, perché segnala che si deve risolvere tra di loro, evidentemente aggiungiamo noi con la mediazione degli americani, definiamo la mediazione, oggi è domenica, siamo particolarmente buoni, però è un passaggio interessante, cioè l'uso dialettico in questo caso è discretamente sofisticato e dà l'idea di come si possa risolvere la questione in seno alla Nato. L'altro passaggio interessante è quello proprio sul rilancio dell'allenanza atlantica. Anche qui Di Maio dice che prima della guerra era praticamente moribonda, adesso invece ha due paesi in più. Se pensiamo soltanto a questo, qualcosa è cambiato. E qui si inserisce l'altro tema, che è quello di una divaricazione tra le mitologiche forze armate europee e la Nato, di cui di fatto si parlava più della Nato qualche tempo fa, ricorderà la scorsa estate dopo la vicenda dell'Afghanistan, quando molti paesi europei erano offesi dall'avere scoperto, incredibile ma vero che gli americani non li tengono allo loro stesso livello e non li avvertono delle cose che fanno, ricorderà si rilanciava l'idea delle forze armate europee, eccetera, oggi se ne riparlerà, nei prossimi anni la Francia li rilancerà ovviamente perché pensa così di imbracare il riarmo della Germania, ma concretamente il tema non c'è. E il terzo passaggio a cui facevo riferimento è quello a cui anche l'Empicidamente segnalava, cioè la posizione italiana è fortemente antirussa adesso nelle dichiarazioni, attenzione però, nelle dichiarazioni perché poi nei fatti ci sono anche altri movimenti, l'abbiamo visto con Draghi che in maniera compiuta da Washington ha segnalato agli americani come debbano essere gli ucraini a mettere l'ultima parola sull'avanzata o la controoffensiva sul loro territorio, quindi giocano bene le due parti, diciamo Di Maio e Draghi in questa aggiungo un'altra cosa, poi andiamo in pubblicità, l'affermazione di Di Maio, attenzione che prima di quello che è successo della guerra dell'Ucraina le opinioni pubbliche di Svezia e Finlandia non erano lontane dall'idea di entrare nella NASA, questo dà un'idea di cosa si è prodotto, ne riparliamo subito dopo la pubblicità. Eccoci, eccoci ancora qui, allora si diceva le parole di Di Maio al vertice, dopo il vertice di Berlino ci ricordano tra le altre cose che ha analizzato prima Dario Fabri un elemento importante, che c'è uno slittamento nelle opinioni pubbliche di molti paesi riguardo all'adesione alla NATO, non è forse del tutto il caso dell'Italia, usiamo un eufemismo, sappiamo che c'è una maggiore divisione, ma è anche vero che più lontana è la minaccia, meno forte è la spinta e lì invece la minaccia è molto vicina per quanto riguarda la Finlandia, non solo, ma quanto può aver giocato il fatto, e glielo chiedo, che un paese con cui si specchia in tutti i sensi la Finlandia, cioè l'Estonia, abbia già fatto questa scelta? Però l'ha già fatta da un bel po'. Sì, ma vedendone gli effetti dico anche, no? Questo sì, questo ci può essere stato nel calcolo, ma ancora più importante, ciò che ha convinto i due paesi, è questo combinato composto da aggressività russa e poca capacità sul terreno, questo è fondamentale, cioè da un lato vedere che questi la guerra la fanno sul serio, dovevamo già saperlo, a dire la verità, visto che l'hanno fatta in Georgia, l'hanno fatta in Cecenia, non un secolo fa, che siano, anche nel 2014 peraltro, si sono presi la Crimea e hanno agitato il Donbass, non solo la fanno sul serio, ma la fanno male, quindi c'è la possibilità di resistere in quella finestra di pericolo che è iniziata oggi, perché questo ha veramente cambiato i calcoli, che l'Operione pubblica si sia avvicinata all'idea di una Nato, è legata a questo, a dire sono tanto pericolosi quanto inefficienti nella guerra convenzionale, dal momento che non pensiamo vogliano fare la guerra nucleare a noi, in questa finestra, visto ciò che abbiamo visto in Ucraina, noi possiamo reggere l'urto adesso di un attacco eventuale russo, perché hanno dimostrato di non saperlo portare in maniera assolutamente efficace, a maggior ragione adesso, che la Russia è impantanata e distratta in Ucraina, questo ha cambiato i loro calcoli, la performance non proprio stellare della Russia sul terreno. Stiamo vedendo con lei che ha annunciato il sì del partito socialdemocratico svedese all'adesione di Stoccolma alla Nato, anche qui è un passaggio storico, come è più che la Finlandia? La Finlandia è vero che è stata la campionessa dell'equidistanza, l'abbiamo citato tante volte per tutta l'era che con durante praticamente la seconda metà del Novecento, è però vero che la Svezia è un'altra cosa, è un'altra cosa anche perché è un paese più importante, la Finlandia, da quasi tutti i punti di vista, no? Da tutti i punti di vista, certo. E quindi stiamo parlando di un passaggio davvero epocale, cioè la Svezia che fa parte della Nato, era come pensare la Francia che fa parte del patto di Varsavia, nel senso che stiamo parlando veramente di un transito forte, voi direte, vediamo nella Nato dei paesi che effettivamente facevano già parte del blocco dell'Est, quindi non deve essere così clamoroso, addirittura fanno parte della Nato paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica, certo, è vero, ma qui stiamo parlando di qualcosa che sta dentro la geografia forte dell'Europa, dei paesi storici che hanno fatto guerre. Sono eventi che hanno semplicemente la stessa importanza, infatti quando la Polonia o i tre Baltici che erano addirittura dentro l'Unione Sovietica, a differenza della Polonia, o gli altri paesi che comprivano il patto di Varsavia, quando questi sono entrati nella Nato era un momento oltremodo storico, così come lo è questo momento, cioè la stessa portata storica, non c'è nessun dubbio, è impossibile fraintenderlo per qualcos'altro. Oh, l'altra cosa che è successa nelle ultime 24 ore, anzi per precisione nelle ultime 18 ore, non mi dica, è la vittoria all'Eurofestia, ora molti dei nostri telespettatori l'hanno seguito soltanto di striscio questo avvenimento ed è comprensibile, anche se ha avuto per la verità che in Italia un grandissimo successo di seguito anche televisivo. E però il fatto che l'Ucraina abbia vinto, grazie soprattutto al voto popolare da casa, come si diceva una volta, l'Eurovision Song Festival, il festival europeo della canzone che ha avuto la sua fase finale e ieri la finalissima a Torino, proprio in Italia, è un evento che ha avuto una serie di risvolti, di conseguenze e di contraccolpi importantissimi proprio nella gestione non solo psicologica ma anche diplomatica di questa fase della guerra. C'è la musica e c'è la voglia di pace in questa vittoria che è insieme un messaggio e un simbolo all'Eurovision Song Contest. A Torino vince la band della nazione che sta lottando per la sopravvivenza. L'Ucraina con la Kalush Orchestra in cassa 631 punti, di cui 439 arrivati dal televoto. Davanti al Regno Unito e Spagna, l'Italia è sesta. Una band di sei ragazzi che prende il nome dalla cittadina, Kalush ai piedi dei Carpazzi, una contaminazione di pop, rap, folk e una canzone, Stefania, scritta dal leader del gruppo Oleg Psiuk, diventata subito un inno alla madrepatria, ma anche a tutte le donne, le madri che proteggono i loro figli dalla guerra o che devono lasciarli a combattere. Dal palco il grido di aiuto per due luoghi simbolo di questa guerra e della resistenza, martoriati dalle bombe come Mariupol e l'acciaieria Azovstal. Un appello che sarebbe potuto costare alla band la squalifica perché non è consentito lanciare messaggi politici durante il festival, ma è il frontman a spiegare in conferenza stampa che era disposto ad accettare la squalifica, ma non a rinunciare a quel messaggio. L'Eurovisione chiude un occhio, un messaggio umanitario non politico, dichiara. Non è stato facile per i membri della band arrivare qui, hanno provato a distanza e in videoconferenza, ma è il futuro che conta adesso. Abbiamo un permesso temporaneo che ci consente di essere qui, scadrà tra due giorni e noi torneremo in Ucraina. Non so esattamente cosa farò perché è la prima volta che sono all'Eurovision, ma come ogni ucraino sono pronto a combattere più che posso fino alla fine. Quel messaggio Mariupol e l'acciaieria con l'hashtag Eurovision scritto sulle bombe, il rompe la guerra al festival con alcuni messaggi telegram postati sui canali filorussi. E durante la serata gruppi hacker vicino al Kremlino hanno tentato attacchi all'Eurofestival e al televoto. Il commentatore e presentatore ucraino Timor Mirovchenko ha lavorato da un bunker. La sua reazione alla vittoria è un misto di emozione e commozione. Molto presto nella finale dell'Eurovision il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che alla fine questa parola sarà vittoria. La serata è riniziata con l'appello del presidente Zelensky per far votare la band. Decisivi sono stati anche i voti della giuria tecnica dei paesi come Moldavia, Polonia e Romania che confinano con l'Ucraina. Lo stesso Zelensky dopo la vittoria farà un tweet del nostro coraggio e impressione al mondo, scrive faremo del nostro meglio per ospitare in futuro i partecipanti e gli ospiti dell'Eurovision a Mariupol libera, tranquilla e restaurata perché è il paese vincitore a organizzare la prossima edizione. Si chiamerà Stefania espressi il treno che collega Kiev a Ivano-Francisk e ogni volta che partirà o arriverà in stazione verrà festeggiato con la canzone vincitrice di Eurovision. La canzone Stefania è dedicata a mia madre, è il suo nome ma dopo l'inizio della guerra ha iniziato ad avere altri significati per molte persone. Tanti l'hanno interpretata come mamma ucraina e hanno iniziato a sentire la mancanza delle loro madri. Per questo motivo è entrata in molti cuori ucraini. Gli edifici distrutti dalle bombe, le fiamme, quel che resta di Irpin e di Buccia, i soldati sono le donne. In questo video ufficiale della canzone vincitrice ma che la band ucraina ha diffuso solo stamattina dopo la vittoria. Le soldatesse riportano i bambini alle madri, ai nonni. Vorremmo che la nostra canzone diventasse l'inno della vittoria, hanno detto i membri della Kalush Orchestra. In mano il premio, in braccio i loro bambini. Stamattina davanti all'albergo di Torino le ultime foto e gli abbracci con le mogli e i figli prima di lasciare l'Italia e ritornare in Ucraina. Allora, mentre noi con Fabri vedevamo le altre notizie, Paola Mascioli seguiva appassionatissima le... Ne sa molto più di noi. Ne sa molto più di noi e non è difficile, diciamo la verità. Però cosa vogliamo aggiungere a quello che abbiamo appena sentito, Paola? L'unico dato che aggiungo io, e poi lascio volentieri a Paola, Calush è stato ricordato anche nel servizio, è una città della Galizia, quindi di quella parte dell'Ucraina... Dei Carpazzi, che si appoggia ai Carpazzi. ...più distante dalla Russia e storicamente più nazionalista, quindi ha un valore anche da questo punto di vista. Allora, a te, Paola. Allora, no, in realtà non è che ne sappia molto più di voi, mi ero solo incuriosita perché questo gruppo è molto eterogeneo, c'è il frontman che è un rapper che ha un nome un po' complicato, si chiama Ole Psiuk, credo, ed è quello di cui vi parlavo prima, è il ragazzo con il cappellino rosa che è stato... vi ho mandato anche delle foto che avevo trovato sull'account di un gruppo che si chiama Zopatroul, questi gruppi vanno a salvare gli animali che sono rimasti abbandonati nei villaggi che sono stati distrutti e sono diventati molto famosi in tutto il paese, vengono sostenuti da tutti perché qui c'è un amore enorme per gli animali domestici. Noi ci troviamo in questo giardino dove ogni sera tra un po' arriveranno tutti a spasso con i loro cani e poi l'avevamo visto anche quando eravamo in Polonia arrivare tutte le famiglie con gli animali al seguito, quindi anche lui ha accompagnato questi ragazzi a salvare un cane a Irpin, quindi quella foto che state vedendo è relativa a Irpin, un luogo dove sono avvenute delle stragi terribili, ricordiamo soprattutto quel ponte crollato con le persone che disperatamente attraversavano in mezzo all'acqua, quindi è una persona che dentro questa guerra ci sta tanto, non solo per gli animali ovviamente ma anche per altre questioni, ha detto di essere pronta a combattere per il suo paese. Quindi poi ci sono altri musicisti, ha un gruppo composto da musicisti strumentisti, uno di loro è rimasto in Ucraina a combattere e hanno detto tutti di essere pronti se necessario a tornare a fare la loro parte per il paese perché vogliono che l'anno prossimo l'Ucraina sia libera, sia ricostruita e sia in grado di ospitare questo festival. L'Eurovision Song Contest è una cosa che noi in Italia negli ultimi anni avevamo un po' dimenticato, poi grazie agli ultimi due o tre anni invece è tornato in auge anche grazie alla vittoria allo scorso anno dei Maneskin, ma è una kermesse soprattutto nei paesi del nord e dell'est Europa, molto molto sentita e credo che l'esclusione del musicista russo sia stata anche quella un piccolo colpo difficile da assorbire in Russia. L'Ucraina l'aveva già vinta altre due volte questa manifestazione, quindi in queste zone è un po' come il festival di Sanremo in Italia, forse anche di più e quindi aver vinto questo festival per l'Ucraina ha veramente un significato importante, ha molti significati, oltre al fatto che tutta Europa ha votato per loro, che gli stessi cantanti italiani hanno detto di aver votato per loro, Mahmoud e Blanco hanno scelto di votare per loro, sono stati in qualche modo i beniamini di questa manifestazione, l'Europa, il voto popolare, il voto da casa ha votato per loro e ci sono state le congratulazioni che sono arrivate dai leader politici europei, quindi come avevate detto anche voi prima, questo è andato ben oltre la manifestazione musicale, la Kermes che ha la sua importanza eccetera, è diventato un fatto politico e infatti oggi tutti i commenti dei politici ucraini erano su questo livello, abbiamo fatto vedere quanto siamo amati, quanto siamo importanti per gli altri paesi, vinceremo la guerra come abbiamo vinto anche questa manifestazione grazie al supporto di tutti gli altri. Ecco questo un po' era quello che volevo aggiungere a questo fatto che è accaduto grazie, hai fatto benissimo. Possiamo anche metterci qualcos'altro visto che stiamo dedicando questo spazio anche a ragione oggi allo Eurovision che è un'idea tutta italiana, tutte volte noi da bravi italiani non lo ricorderemmo mai neppure sotto tortura, è stata inventata da un italiano, ha preso a modello, Sergio Pugliese peraltro che ha preso a modello il festival di Sanremo, l'idea finale fu elaborata proprio a Roma e vede la Lungara, quindi una via storica a Roma, a Trastevere, da lì nasce, la prima volta fu fatta a Lugano, un'altra città di lingua italiana, sebbene il territorio sviluppo è una città svizzera di lingua italiana e poi da allora è sempre stato celebrato tutti gli anni con una sola eccezione se non vado errato, quindi è un'idea italiana di cui ovviamente non parliamo mai perché diceva giustamente Paola, poi ha avuto successo ed è verissimo più nel nord e nell'est Europa, a noi non ha mai molto entusiasmato insomma, è comunque qualcosa che ci appartiene da vicino. Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che dice congratulazioni Kalush Orchestra e all'Ucraina per aver vinto l'Eurovision Song Festival, stasera la vostra canzone ha conquistato i nostri cuori, celebriamo la vostra vittoria in tutto il mondo, l'Unione Europea è con voi. Allora parliamoci chiaro Fabri, è chiaro che è inevitabile che ci sia una spinta che va oltre la sostanza, ben oltre la sostanza ed è inevitabile che la politica e la diplomazia cavalchino questa cosa, però è vero che il voto popolare è qualcosa di significato, per un motivo ben impreciso. Il voto popolare è soprattutto voto dei giovani, perché una manifestazione di questo tipo è seguita soprattutto dai giovani. Quelli anche che hanno più dimestichezza con la tecnologia necessaria per votare. Esatto, e quindi non voglio minimamente dire che c'è stato un referendum pro-Ucraina o cose di questo genere, però un significato c'è, una spinta c'è, un segnale c'è. Certo che c'è un segnale evidente, come potevamo immaginarci, ed è anche legittimo davanti a ciò che è successo che larghissime fasce, diciamo così, specialmente quelle più giovani dell'opinione pubblica di molti paesi europei, siano vicini alla sofferenza, alla vicenda, alla causa ucraina. Io credo che sia naturale per la loro impostazione antropologica, per l'età che hanno, per l'inclinazione alle grandi battaglie tipiche del loro momento anagrafico, per le vicende a cui abbiamo assistito, per i fatti tragici, le stragi, potremmo continuare quasi all'infinito purtroppo, però come dice lei, il voto popolare testimonia una vicinanza. Insomma, per dirla in formula, se dovessimo chiedere oggi da che parte state a una gran parte, diciamo, una buona fetta, io credo addirittura una gran parte dell'opinione pubblica di tutti i paesi europei, questi sceglierebbero al di l'età l'Ucraina, almeno per quello che può contare, come diceva lei per carità, è un concorso canoro. La guerra non si è spostata sul terreno di un metro, ovviamente, per l'Eurofest. Certo, è sempre un errore, peraltro, trascinare queste manifestazioni, una volta si chiamano Kermes, queste manifestazioni dentro la sfera politica o geopolitica, è comunque sempre un errore, ma credo che in questo caso fosse inevitabile e anche legittimo. Vedo Luca Steinman, che ha riconquistato una posizione strategica, riconosco la vecchia camera d'albergo, o è un'altra ancora? È un'altra, sono ospite a scrocco da una persona che ha una buona connessione internet, quindi spero che regga oggi. Non c'è bisogno di dire a scrocco, non è carino. Viva la sincerità. Lucra sulla guerra. Lei ricorderà anche, Fabio Mare Angelicchio raccontò, non disse a scrocco, però che fu ospitato. Raccontò che fu ospitato, addirittura, no, scroccò una cena da una signora che era proprietaria di una sala da ballo, perché ride. Bisogna c'era adesso di ricordare il dettaglio della sala da ballo, non capisco. Fai ridere anche il povero Steinman che invece si era avventurato in questo scrocco. Questa volta è colpa di Steinman. È stato lui. E secondo me c'era un piano per arrivare alla diffamazione di Angelicchio. Diciamo che Steinman l'ha fatta apposta. L'ha fatta apposta. Però, allora, adesso abbiamo celiato per qualche secondo, è domenica, abbiamo appena visto l'Eurofestia, adesso rientriamo nella cosa più seria. Che cosa ci mostrerai? Beh, innanzitutto mostrerò come stanno arrivando i soldati russi da queste parti, dalle parti di Lugansi, lo dicevamo ieri. È la prima volta che si vede sul terreno, almeno che vedo io sul terreno da due mesi e mezzo a questa parte, una notevole presenza di fanteria che viene direttamente dalla federazione russa e che è integrata ufficialmente e formalmente all'interno regolare di Mosca. Quindi non milizi locali che sono in qualche modo affiliate all'esercito di Mosca, ma proprio soldati che prima combattevano più a nord, che combattevano verso Khark, verso Izium e che adesso si stanno spostando qui e che hanno proprio compiti di pattugliamento, compiti anche di controllo del territorio. Quindi se vogliamo per certi versi addirittura di polizia, ovvero di polizia per come la polizia può funzionare in territori che sono appena stati conquistati, quindi posti di blocco, controllo della popolazione, controllo dei movimenti e così via. E questo mi sembra una nota importante perché mostra anche come, anche formalmente, poi la Russia si è entrata, perlomeno in parte, dei territori dell'autoproclamata repubblica di Lugansk e giochi ora un momento proprio un ruolo importante dal punto di vista proprio dell'ordine pubblico nei territori che sono stati conquistati recentemente. Quindi un compito che non viene più lasciato soltanto alle autoproclamate repubbliche, ma che viene preso direttamente in mano dalle forze di Mosca. Sottolineo che in termini anche di mostrine e di distintivi è impossibile riconoscere la differenza tra gli eserciti dell'autoproclamata repubbliche, perlomeno quella di Lugansk, e i soldati russi che ho visto sul territorio. Quindi mi sembra che ci sia anche una maggiore integrazione tra le milizie locali e l'esercito di Mosca che fa pensare che questa integrazione poi proceda anche dal punto di vista formale. Ricordiamolo che le amministrazioni di questi territori a poco a poco stanno ponendo le basi per un'integrazione totale, formale all'interno della federazione russa. Allora ci fermiamo e poi la linea direttamente a te. Allora tra poco torniamo da Steinman che vedo comunque collegato, ma volevo darvi conto di come si è reagito da parte russa a quel che è successo all'Eurofestival e a tutte le reazioni che ci sono state dal campo europeo, diciamo, e non soltanto. In un modo solo, con un tweet ironico se non sbaglio, della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Vediamo. Concorderete sul fatto che senza la vittoria dell'Ucraina all'Eurovision il quadro di ciò che è accaduto a questo paese non sarebbe completo? Costumi nazionali e strumenti musicali, due babayaghe alle corde, breakdance e canti sull'Azovstal. L'Europa plaude in piedi, si pario. Si, si tratta evidentemente di una lapidaria reazione di scherno, completamente opposto. Siamo in grado di farvelo vedere in modo in cui là dove è stato citato dalla Zakharova essere il punto forse simbolico più forte di tutta la guerra, si è ascoltato la canzone e la vittoria. Vediamo. Stefania, mamma, mamma, Stefania, rosquitai e pole, amo nasi mie, zaspivai me nì, mamma, coli scovu, hociusche pociutti tue ride slovo. Si è sentito un'esplosione mentre cantava. Ma lì siamo dentro a Azovstal e certo anche la storia delle guerre è fatta anche di canzoni cantate al fronte, di canzoni cantate in trincea, anzi alcune delle canzoni più famose sono canzoni di guerra. Qui ovviamente non sarà questo il caso e stiamo all'interno comunque di una guerra di cui parliamo in un segmento che dura da meno di tre mesi, è qualcosa di diverso. In questo momento, per dovere di cronaca, lo vediamo e magari lo sentiamo per qualche secondo, c'è Biden alle prese con uno forse dei discorsi più difficili di questo anno e mezzo di mandato. Milioni di morti in America, secondo le ultime cifre, nove membri di famiglie e vediamo quella sedia vuota. Tanti bambini lasciati indietro a causa del Covid, per via delle scuole che chiudevano. dovete fare turni più lunghi, lo stress è notevole ed è per questo che continuo ad impegnarmi a fare di più, a fare di meglio, per mantenervi al sicuro, per tenere al sicuro le nostre comunità, per costruire fiducia e rispetto che tutti meritano, soprattutto voi. dovremmo concentrarci e trovare ciò che funziona, un sistema di polizia di comunità, non solo poliziotti in macchina per la strada, ma poliziotti che conoscano il vicinato, che possano davvero garantire la sicurezza e dare un senso di fiducia. gente qui non si tratta di una scelta tra giustizia iniqua o no, dobbiamo essere d'accordo, dobbiamo finanziare la polizia con le risorse che abbiamo, garantire il giusto addestramento perché proteggono le nostre comunità e proteggono loro stessi, bisogna ripristinare la fiducia da parte della gente. Mio padre diceva... Ecco, di cosa sta parlando Biden? L'avrete probabilmente capito. C'è stata nella notte scorsa una strage terribile a Buffalo, un suprematista fanatico ha voluto imitare lo sparatore, il killer di Christchurch, dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, fece a Oakland praticamente una strage terribile e ha ucciso praticamente in diretta, come si fa in questi casi ormai con la condivisione social possibile, dieci persone. Un'ennesima strage che ha riproposto tutto insieme i problemi che sappiamo del facile ricorso alle armi e delle stragi che puntualmente insanguinano il territorio americano. È una strage che arriva nella settimana della polizia negli Stati Uniti perché l'evento a cui stiamo assistendo oggi si celebra e il discorso di Biden riguarda proprio questo, il giorno dei peace officers, cioè di tutti gli agenti che mantengono la pace e l'ordine negli Stati Uniti, nel memoriale, e questo discorso che sta producendo Biden cade proprio in quel giorno, in cui si ricorda tutti coloro che perdono la vita nello svolgere il loro lavoro di forze dell'ordine, così per semplificare. Proprio in questa settimana è arrivata la strage a cui lei fa riferimento che poi è diventato il centro del discorso inevitabilmente di Joe Biden quest'oggi. Allora, stiamo ancora aspettando in realtà, Luca Steinman, le immagini che ci stai inviando attraverso ovviamente i canali tecnici, però ti do la linea e poi cominciare a farci il tuo racconto. Beh, sì, innanzitutto dobbiamo interrogarci su quello che succederà da queste parti nelle prossime settimane. Io ho cercato di parlare anche con un po' di persone, di raccogliere informazioni per provare a capire quali siano le vere intenzioni dei russi rispetto all'aggressione, rispetto alla campagna militare che stanno lanciando nel Donbass. Fino a che punto vogliono rimanere su questo territorio e invece fino a che punto vogliono espandersi verso territori ulteriori. Quello che mi è stato detto è che innanzitutto gli obiettivi principali sono le conquiste naturalmente delle città che si trovano nel territorio di Lugansk, in particolare Kramatorsk che è la, se vogliamo, la capitale ucraina di questa regione. Da quando nel 2014 i filorussi e i russi hanno preso il controllo di Lugansk, le autorità ucraine sono passate a Kramatorsk. Quindi la conquista di tale città che peraltro è stata anche purtroppo luogo della terribile strage di qualche settimana fa, di cui ricordiamo, è per i russi fondamentale. Nelle scorse ore i tank russi si stanno dirigendo soprattutto verso Severodonetsk e verso Lisichansk. I russi vorrebbero conquistare prima Lisichansk, scusate il contrario, prima Severodonetsk e Lisichansk perché quest'ultima si trova su un territorio insolitamente rialzato qui nel Donbass e quindi è più difficile da conquistare e per farlo, per provare a farlo, i russi vorrebbero circondare prima di tutto la città. Una volta che queste tre città saranno cadute, qualora mai cadessero appunto in mano russa, le forze del Cremlino vorrebbero puntare su Danetsk e a quel punto assediarla, soprattutto strappare il controllo ucraino, la città di Adyevka che si trova proprio a un'avanciata di chilometri dal centro cittadino di Danetsk e che è appunto ancora sotto il controllo ucraino e a quel punto loro conterebbero di conquistare, secondo i loro piani, la regione di Danetsk che non è ancora sotto il loro controllo in una settimana di combattimenti. Questi sono un po' i piani che sono stati condivisi con me. Ci sono però invece umori e anche opinioni molto diverse rispetto a quello che potrebbe essere poi la continuazione di questo attacco, se mai ci sarà una vera e propria continuazione, ovvero fino a che punto poi i russi si sposteranno verso l'Ovest, fino a che punto punteranno effettivamente ad Odessa, naturalmente nei piani generici e negli obiettivi anche ideologici della Federazione Russa c'è la conquista di tutta l'Ucraina del Sud fino alla Transnistria. Ma quanto è fattibile questo sul campo di battaglia? Quanto sangue costerebbe? Quante risorse costerebbe alla luce di una, abbiamo detto e va ancora sottolineato, difficoltà militare che la Russia sta incontrando, ha incontrato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. E per questo io mi interrogavo anche su che cosa possono significare i bombardamenti che i russi stanno mettendo in atto sulla città di Odessa negli ultimi giorni, negli ultime settimane, qualora non rientrasse veramente nei loro obiettivi quello di conquistarla con operazioni via terra. Io questo naturalmente non lo so. Ho l'impressione che vi siano opinioni molto discordanti rispetto alla capacità di arrivare fino a Odessa e arrivare fino alla Transnistria. Una discrepanza di opinioni dettata soprattutto, mi avviso, proprio da questioni e da punti strategici, ovvero i russi si chiedono se è strategico o ce la facciamo effettivamente ad arrivare. Ne vale la pena dal punto di vista dell'utilizzo delle nostre risorse arrivare fino ad essa? Mi sembra che da questo punto di vista la questione sia aperta perlomeno a livello di media gerarchia militare. Poi naturalmente che cosa decidano i pensatori del Cremlino? Quelli restano grandi segreti. Però dal punto di vista di truppa, dal punto di vista anche di strategie militari locali, mi sembra che queste questioni siano più aperte che mai. Chiarissimo, chiarissimo Luca. Ti voglio chiedere una cosa. Nell'attesa di mostrare le immagini che ci hai inviato. Come avrai anche sentito, noi qui in Italia ma anche nel resto d'Europa allo stesso modo di due cose si parla. L'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato, la vittoria ucraina all'Eurofestival con quello che ha significato non per la cosa in sé, non per il successo canoro in sé, ma per quello che lo ha provocato, ovvero una sorta di pronunciamento popolare attraverso il voto da casa, tutte queste cose e anche poi ciò che ne è seguito, le prese di posizione dalla von der Leyen a Stoltenberg per dire, non come se si trattasse di una terza adesione alla Nato o all'Unione Europea. Lì, nel territorio notoriamente filo russo e in parte controllato dai russi, queste due cose sono citate o non ci sono proprio? Allora, per quanto riguarda il primo punto, ovvero l'adesione di nuovi stati e l'Alleanza Atlantica, mi sembra che sia qualcosa che non sia troppo dibattuto, perlomeno dalla popolazione dei soldati, proprio perché riguarda qualcosa di altro, ovvero non riguarda l'immediatezza, non riguarda il futuro imminente di questi territori e il destino imminente delle persone e delle famiglie che si trovano qui. Ecco, noi su questo territorio abbiamo tantissime famiglie divise in cui una parte è sul lato ucraino per volontà, per scelta, per costruzione, perché si è ritrovata di là e una parte invece si trova sul lato in cui mi trovo io. Magari molte di queste famiglie hanno dei parenti in Russia, quindi ci sono tantissime storie di spaccature, di divisioni che sono veramente l'assoluta priorità e quindi si parla di politica e di geopolitica generalmente nella misura in cui si cerchi di identificare, di cercare di capire quando poi si potranno rivedere i propri cari, quando poi ci sarà una situazione più stabile, quando si potrà tornare magari nel proprio villaggio di origine che è stato oggetto di bombardamenti per andare a verificare che casa propria sia o non sia ancora in piedi che esista ancora. Quindi ecco le questioni che afferiscono più alla politica internazionale in senso più ampio mi sembra che siano meno dibattute. Per quanto riguarda invece il concorso Canoro di cui parlavamo, dal punto di vista russo c'è la consapevolezza chiaramente di stare perdendo questa partita, non soltanto la partita propagandistica, narrativa, la partita della PIL della Russia nel mondo contro l'Ucraina, contro l'Occidente, non soltanto a partire da questa guerra, ma in generale. È una cosa molto chiara, faccio un esempio, qualsiasi ragazzo in Russia o qui nel Donbass a Instagram utilizza i social che la Russia ha classificato, che il proprio governo ha quindi classificato come organizzazione estremista. Quindi nessuno in qualche modo non utilizza più i social perché è il proprio governo, in cui magari può anche credere, perché poi ci sono opinioni politiche diverse. Però se il governo in cui anche una parte di popolazione si identifica dà un ordine di questo tipo, quasi nessuno, se non nessuno, smette di usare i social. E questo mi sembra anche emblematico per evidenziare un po' anche la subalternità comunicativa e culturale nella cultura di massa globale, se vogliamo così chiamarla, da parte della Russia. Tra l'altro, come sappiamo, uno dei social, Telegram, nasce proprio in Russia, ha un processo di genesi commerciale russo. E Telegram è molto usato dai soldati russi. Siamo in grado di vedere, però la fonte è ucraina e quindi è giusto che lo diciamo, che cosa i volontari russi racconterebbero sui canali Telegram, sul loro reclutamento e sulla impreparazione a cui sarebbero stati in qualche modo portati nell'essere trasportati in una guerra di cui non avevano nessuna delle coordinate. Vediamo. Siamo una formazione di volontari della Federazione Russa che intende sostenere gli interventi nel territorio della Repubblica Popolare di Lugansk. Tutti i presenti hanno espresso il desiderio di partecipare all'operazione militare speciale e all'arrivo nel territorio della Repubblica Popolare di Lugansk l'amministrazione locale ha fatto un utilizzo improprio dei volontari, quindi senza un adeguato addestramento queste persone sono state mandate in prima linea e senza alcuna comunicazione con le forze armate della Repubblica Popolare di Lugansk. Al momento siamo tornati nel territorio della Federazione Russa non ci viene dato alcun aiuto da parte delle autorità locali le persone che vedete provengono da diverse zone comprese quelle più lontane, diciamo così tra cui l'estremo oriente, la regione di Arkhangelsk, dalla Kamchatka, da Sakhalin, da tutte le parti, da diverse parti ci hanno di fatto mandato al macello. Fabri molto forte, perché qui stiamo parlando, io l'ho lanciato dicendo che la font ci arriva dai canali ucraini che l'hanno intercettato, ma indubitabilmente un gruppo di russi all'interno della Federazione Russa rimpatriato, sbandato, perché non si può chiamare diversamente, protestando di essere stati al macello diciamo allo sbaraglio, sono stati mandati allo sbaraglio? Sì, è l'impressione che non sia stato spiegato loro né il tenore né la difficoltà né l'obiettivo e il margine dell'operazione ci sono stati già altri casi, a dire il vero l'abbiamo anche commentati qui i soldati russi un po' spersi recuperati e poi filmati attraverso i social in cui spiegavano o non spiegavano di non sapere bene neanche dove si trovassero può essere a volte, non è questo il caso, questo è più se fosse reale e insomma se fosse tutto autentico sembrerebbe di sì, ma è difficile vidimarlo da qui potrebbe essere più significativo perché a volte quelle sono anche dichiarazioni che si possono dire quando si finisce prigionieri per dimostrare la propria innocenza noi non sappiamo nemmeno che cosa sono venuto a fare qui non me lo hanno spiegato questo potrebbe essere un documento più valido di quello perché sembra essere se fosse autentico, ripeto sembrano essere dichiarazioni date da russi in territorio russo ad un interlocutore russo quindi avrebbero un altro significato ciò che è certo è che questo lo testimoniano moltissime intercettazioni i piani ad esempio di invasione sono stati messi in piedi negli ultimi giorni e alcuni di coloro che sono stati avanguardia dell'operazione stessa non ne sapevano niente fino a 48 ore prima e non soltanto sotto ufficiali anche ufficiali non ne sapevano niente fino a 48 ore prima questo documento se autentico testimonerebbe ancora una volta proprio questo da tutta l'idea di essere autentico esattamente lo conosceva Simon questo documento l'avevi già visto? no in realtà sinceramente no e non mi è difficile anche dare una valutazione se non confermare quanto dicevo prima che negli ultimi mesi ho notato come nei dipartimenti militari russi ma in generale in Russia ci sia un grande problema di comunicazione quindi di coordinamento tra i vari organi di Stato che poi questo effettivamente sia tale anche per quanto riguarda le truppe di volontari questo non lo so dire perfetto allora diciamo che abbiamo tutto il tuo materiale quindi puoi cominciare il tuo racconto ti interromperò perché bisogna andare in pubblicità ma poi lo proseguiremo prego Steinman ma fondamentalmente nelle immagini che vedremo vedremo delle distruzioni e vediamo per esempio i soldati questi qua sono soldati russi quindi ecco come vedete io li ho filmati da lontano non si tratta di forze di elite qui invece vediamo ecco sempre un soldato russo di chiara origine asiatica insomma a Papaznaian in questa città che è appena stata conquistata dai russi ecco e qui vedete per esempio un simbolo che è stato posto dai russi in arrivo su un palazzo distrutto che però sarebbe un ex palazzo dell'amministrazione di questa città quindi è anche interessante se vogliamo dal punto di vista simbolico come ancora la simbologia sovietica venga utilizzata per appunto per coprire diciamo i palazzi delle amministrazioni dei paesi che cadono sotto il loro controllo io volevo appunto mostrare questi soldati russi che si vedono nelle immagini e i mezzi con la V che vedete dietro di loro che mostrano appunto come appunto questi questi mezzi militari fossero utilizzati prima in altri territori per sottolineare come si tratti di nuovo lo dicevo prima di truppe non dell'It o meglio non equipaggiate in maniera specifica come potevano esserlo per esempio i Marines che ho visto che operavano a Mariupol o altre forze speciali gli Spednak che appunto hanno operato in diversi territori del Donbass si tratta veramente di soldati semplici con divise semplici senza mostrine che non permettono quindi di differenziarli se non lo si sa dai miliziani invece che operano sul territorio di Lugansk miliziani che sono soprattutto persone che sono state chiamate alle armi con la mobilitazione generale del febbraio scorso ecco quindi persone generalmente che non hanno una preparazione militare specifica ma che sono stati chiamati a combattere appunto nel momento in cui l'autoproclamata Repubblica di Lugansk in coordinamento con la Russia o comunque controllata dalla Russia entrava in guerra e attaccava le postazioni ucraine quindi ecco sottolineerei di nuovo questo dato che secondo me dal punto di vista bellico è importante l'utilizzo per la prima volta su questo territorio della fanteria dei soldati semplici dell'esercito della federazione russa allora grazie per ora Luca Steinman tra pochi secondi andiamo in pubblicità e vi devo dire che mi si conferma che comunque in ogni caso quel filmato che vi abbiamo mostrato ripreso da Telegram è autentico è genuino e si riferisce davvero a un gruppo di soldati russi ritornati all'interno del territorio della federazione russa ecco lo stiamo lo stiamo rivedendo e anche ovviamente tutto è avvenuto in lingua russa ma questo è ovvio avete sentito dal nostro simultaneista di cui ormai riconoscerete la voce ma ci tenevo a dire che avevo riferito della fonte che comunque è Ucraina attraverso la quale è stato diffuso questo filmato che però è sicuramente di matrice russa cioè effettuato da un soldato russo il video postato su Telegram e si trovano effettivamente all'interno della federazione russa nel territorio all'interno della federazione russa dopo essere ritornati dalla Repubblica Popolare di Luansk ci fermiamo Ecco un pugno di secondi alle 19 riprendiamo entriamo nella terza parte del nostro speciale nell'ottantunesimo giorno di guerra segnato come sappiamo dall'ufficializzazione della richiesta di ingresso e con l'accoglienza già certificata virtualmente dalla Nato nella alleanza da parte della Finlandia e domani seguirà anche la Svezia che oggi attraverso il suo principale partito di governo il partito social democratico ha a sua volta ufficializzato che domani ci sarà appunto la richiesta di ingresso anche di Stoccolma cambia la geografia politica dell'Europa questa è la sostanza e cambia anche nello stesso giorno in cui si vedono i risvolti e le conseguenze di un evento che in tempo di pace sarebbe stato normalissimo cioè l'Eurofestival della canzone vinto però a fulor di popolo il caso di dirlo dall'Ucraina con ulteriori appunto risvolti che hanno certificato una sorta di spinta popolare alla solidarietà con l'Ucraina senza che questo lo ripeto abbia spostato di un sol metro la situazione sul campo questo tanto per intenderci però spostando la percezione della solidarietà invece di dell'equivalente di molti chilometri diciamo da questo punto di vista ma stavamo parlando con Luca Steinman che ci raguagliava sulla situazione sul campo in quello che è uno degli elementi più importanti di tutto lo scacchiere di guerra nella zona del Donbass vicino a Severodonetsk giusto Steinman? Sì giusto e guardando la cartina si vede come l'obiettivo dei russi l'obiettivo finale dei russi in questa regione perlomeno nella regione di Lugansk stiano come dicevamo prima Kramatorskio e Slavianskio che sono due appunto centri importanti anche loro russofoni che hanno visto una parte di popolazione spostarsi negli ultimi anni da appunto questi centri verso i territori controllati dalle due autoprochiamate repubbliche popolazione che si spostava perché evidentemente preferivo perché aveva interesse a stare sotto i russi mentre un'altra parte di popolazione sempre importante si è spostata in Ucraina oppure è rimasta sul territorio quindi convivendo con le autorità ucraine cosa che indica ancora una volta come la popolazione russofona dell'Ucraina orientale sia spesso divisa rispetto alle scelte politiche se stare tra russi e ucraini divisione che in questo momento poi in parte viene annullata dal fatto che interesse veramente di tutti che in questo momento la guerra le ostilità finiscono il più presto possibile quindi ci troviamo di nuovo a tante situazioni a tante storie di persone che dicono di non esprimere una preferenza per l'uno o per l'altro purché abbiano salva la pelle insomma l'impressione è anche che però non è questione di ore né di pochi giorni perché questa offensiva russa nel nord del Donbass porti a un risultato anzi se vediamo effettivamente i territori che la Russia ha conquistato negli ultimi mesi qua nella regione di Lugansk sono sì significativi da un certo punto di vista ma ancora minimi rispetto a tutta la parte di Donbass che è ancora sotto il controllo ucraino quindi se effettivamente i russi vogliono arrivare a conquistare tutta la regione come dicono di volere fare come sembra essere il minimo che possano dare impasto alla propria opinione pubblica beh ci dobbiamo aspettare che se le velocità dell'offensiva sono queste allora purtroppo si andrà avanti a combattere ancora davvero per parecchio tempo va bene grazie grazie Luca Steinman Fabri certo questo lo sappiamo ci sono due tipi di strategia di guerra il cosiddetto blitzkrieg cioè la guerra lampo che tiene subito il risultato il colpo del KO dal punto di vista militare oppure la guerra di lavoramento si guerra di lavoramento che non è quasi mai una scelta anzi direi mai insomma se si potesse scegliere la guerra lampo immagino sarebbe la preferenza di tutti i soggetti impegnati in un conflitto perché si ottiene un trionfo molto velocemente si impone il fatto compiuto e poi si comincia a trattare che era poi l'idea con i russi all'inizio quando una guerra diventa di logoramento di attrito per dirla con un anglicismo allora vuol dire che le cose non sono andate bene perché non poteva certo essere questo l'obiettivo l'intelligenza militare britannica quindi evidentemente molto di parte ci teniamo larghi sostiene che i russi abbiano perso già un terzo di tutti gli uomini impiegati in questa guerra forse una stima a rialzo visto il soggetto che la elabora cioè Londra ma non siamo io credo lontani o troppo lontani da questa stima perché poi la guerra di logoramento vuol dire questo si perdono moltissimi uomini una volta i sovietici erano molto capaci in questa guerra perché non avevano le intelligenze tattiche per imporre la guerra lampo ma avevano la capacità di sacrificio la ruvidità e l'elemento demografico superiore quasi sempre loro avversari per vincere la guerra d'attrito oggi molte cose sono cambiate possiamo discutere di quanto sia rimasta la ruvidità e lo spirito di sacrificio che comunque è rimasta molto fra i russi diversa è la questione demografica i russi oggi non hanno tutto ciò che serva a vincere quel tipo di guerra cioè la capacità di assorbire le perdite attraverso una maggiore esuberanza demografica che la russia non ha più da molti decenni e è la ragione per cui poi ci pensa 3, 4, 10 volte prima di effettuare la mobilitazione generale perché rischia soltanto di gravare sull'opinione pubblica senza peraltro darle un abbrivio decisivo sul piano numerico certo questa questa comunque è la situazione delle situazioni cosa intendo dire qui noi vediamo come la russia si è impegnata in una sua guerra che sta sulla lunghezza d'onda della storia della politica e delle necessità anche mediatiche interne del cremlino e noi viviamo una storia della guerra che raccontiamo attraverso evidentemente molte altre sfaccettature e non certo di poco conto però che cosa voglio dire che noi non abbiamo idea avete presente il dibattito su Hitler e la seconda guerra mondiale se la voleva scatenare oppure no noi siamo nella costanza di una guerra di cui non conosciamo l'obiettivo reale di Putin se fosse solo il Donbass se fosse la conquista dell'intera Ucraina se fosse anche semplicemente il tentativo di detronezzare Zelensky e mettere un regime più vicino agli interessi di Mosca se non fosse limitata all'Ucraina o anche ad altri paesi se questa sia la prova generale di qualcos'altro se sia il saggio delle capacità militari delle forze armate russe noi non sappiamo che colpo voleva sferrare Putin quindi non siamo in grado di giudicare se sia riuscito o no nel suo intento se stia riuscendo o no nel suo intento noi possiamo dire soltanto quello che si vede sul terreno che la guerra in questo momento è a un punto di faticoso equilibrio perché voi dovete pensare una cosa noi raccontiamo di Mariupol della Azostal raccontiamo di Kramatorsk che potrebbe cadere di Kharkiv che ha respinto l'offensiva russa di tante altre cose però la situazione non è molto diversa da quella che c'era un anno fa nel senso che le zone di influenza russa sono restate le stesse e semmai quello che è cambiato è che è cambiato nel sud Kherson Melitopol lì c'è stata l'avanzata ma dopo 81 giorni di guerra di questo parliamo di Kherson e di Melitopol e di poco altro della zona che sta a sud di Zaporizia che abbiamo imparato a conoscere perché c'è la famosa centrale nucleare più potente di tutta l'Europa però è un pezzo di guerra che se fosse soltanto questo sarebbe estremamente insoddisfacente per i russi se i russi stanno giocando solo scusate il verbo giocando stanno facendo il gioco solo di vincere questa guerra a meno che gli obiettivi non siano altri è corretto così Fabri? è corretto perlomeno possiamo già dire che la Russia si è presa tutto il Mar Dazov questo è l'unico risultato fino adesso concreto della guerra la Russia controlla totalmente il Mar Dazov come abbiamo visto anche nella carta precedente perché lì ha registrato i suoi massimi risultati sul terreno così come invece a nord della Crimea soprattutto nella parte regione di Kherson ma ciò che conta veramente fino in fondo è che il Mar Dazov è tutto nella sua disponibilità tecnicamente militarmente lo era già prima sapeva addirittura nel 2018 interdiva il passaggio alle navi ucraine figurarsi però adesso ha proprio il territorio per rimanere lì chissà se ottimamente per citare i latini e non andarsene per impedire l'affaccio su quel mare che è un lago ormai russo agli ucraini questo è l'unico vero obiettivo concentrato qualcuno dirà beh non è pochissimo però a fronte di quante perdite di quale scadimento nella posizione economica della Russia probabilmente nei calcoli russi questo è tollerabile chissà di certo la guerra non è finita fino adesso è in stallo nel Donbass non c'è dubbio e le parti non sono convenute sull'interrompere l'ostilità anzi l'impressione è che si stia addestrando e attrezzando soprattutto ad una guerra più lunga quindi che può avere ancora oggi altri obiettivi che almeno non sono stati accantonati fino in fondo mettiamola così d'accordo Steinman sì assolutamente sì la cosa che da prendere in considerazione è il fatto che i territori che vediamo al sud dell'Ucraina che sono molto importanti in realtà dal punto di vista strategico e che sono stati conquistati dei russi beh lo sono stati ormai fatto all'inizio di questa guerra quindi dobbiamo renderci conto che al di là della città di Mariupol che è un po' una storia a sé negli ultimi negli ultimi mesi di fatto non ci sono state conquiste troppo significative dal punto di vista strategico per i russi perché ripeto ormai Kherson e Melitopol sono sotto il controllo russo veramente dall'inizio del mese di marzo ed è per questo che io penso che per i russi sia fondamentale ora avere una o altre grandi vittorie in questa regione per lo meno per prendersi il controllo del Donbass ma anche per poter insomma raccontare a se stessi e tutti del fatto che ci siano delle vittorie molto importanti e la narrazione che c'è anche da queste parti è che delle grandi vittorie dei grandi successi debbano ancora arrivare siano in procinto di arrivare ora naturalmente ogni narrazione per compattare il fronte interno si basa sempre in ogni guerra sulle grandi vittorie che non ci sono ancora state che devono arrivare però ecco riporto questo fatto il fatto che molti russi raccontino appunto che i piani che hanno messo in atto debbono ancora trovare concretezza e che vorranno e potranno trovare concretezza nelle prossime settimane quanto sia propaganda e quanto invece questo risponda a dei disegni concreti beh questa è una questione molto aperta che sta poi alle nostre interpretazioni allora adesso vi faccio vedere vi mostro qualcosa che entra proprio nello spirito di ciò che stavamo dicendo andiamo a Mariupol dove per l'ennesimo giorno si parla di assedio finale però questa volta noi vi mostriamo lo ha scovato Pina Debbie un filmato un video in cui a fare da narratore Lio Narrante è un celebre veterano dell'informazione dell'informazione russa e possiamo cominciare possiamo cominciare a vederlo ecco qua si chiama Slatkov lui e sta utilizzando siamo come vedete sulla Azov su su Mariupol Slatkov c'è scritto il suo nome in sovraimpressione e sta sparando verso la Azovstahl da quel carro armato vedete è come è orribile dirlo ma è come un videogioco no sta letteralmente utilizzando quello schermo che è anche ovviamente l'obiettivo elettronico diciamo per centrare vedete l'acciaieria e adesso dice questa settimana l'equipaggiamento ucraino si è unito al bombardamento attivo delle posizioni del reggimento Azov perché lo dice perché quel carro armato è stato in realtà sottratto alle forze ucraine viene utilizzato appunto contro l'acciaieria a livello semplicemente simbolico immagine viene fatto utilizzare proprio a lui che dice abbiamo osservato il lavoro di questo BTR4 Bucefaluz è assolutamente fantastico così dice circa 300 proiettili a frammentazione perforanti e altamente esplosivi sono stati lanciati verso il bersaglio nel volgere di pochi minuti vedete l'effetto del lancio dei proiettili e aggiunge gli ingegneri russi potrebbero avere qualcosa a cui pensare quando studieranno questa tecnologia che è stata catturata anche questo evidentemente è propaganda bellica non so se era finito sì no andiamo avanti se c'è ancora andiamo avanti a vedere le immagini perché sono eloquenti e mostrano proprio l'utilizzo di questo che è un carro armato ucraino appunto BTR4 Bucefalus e come vedete viene utilizzato in questo modo e qui lo vediamo che ha conquistato tra virgolette il diritto alla Z delle forze di invasione russe ecco questo è un elemento di propaganda che va sui mezzi di comunicazione russi verso appunto l'opinione pubblica e si vede anche per la prima volta bene da questo punto di vista la Azovstal che dici Steyman dico che mi sembra una situazione che è totalmente di stallo in cui come vediamo i movimenti dei mezzi militari russi sono statici addirittura sono fermi quindi non c'è una vantata non c'è un a una dinamicità ma c'è questa situazione di stallo in cui tutte le fonti sul territorio riportano di posizioni di posizionamenti reciproci fondamentalmente inalterati con le due parti che occasionalmente si sparano dei colpi di artiglieria quasi l'impressione che sia quasi senza obiettivi specifici ma proprio invece per farsi sentire da una parte come dall'altra per far sentire la pressione sull'avversario questo naturalmente avviene soprattutto da parte russa perché i russi avendo circondato l'acciaieria hanno il coltello dalla parte del manico quindi mi sembra che non ci siano novità rilevanti dal punto di vista del campo di battaglia proprio ma che ci siano questi colpi reciproci con all'interno dell'acciaieria un gruppo di soldati che poi si i cui numeri sono ancora sono incerti però si tratta sicuramente di ancora centinaia di diversi soldati che probabilmente prima o poi saranno stremati dalla situazione che stanno vivendo dal punto di vista psicologico ma poi soprattutto dal punto di vista della sopravvivenza perché manca l'acqua manca il cibo e bisognerà vedere quanto resisteranno e fino a quanto decideranno di restare chiusi all'interno dell'acciaieria senza provare a mettere in atto un'eventiva un'eventuale controoffensiva che insomma per sancire per provare a vedere se ce la faranno effettivamente ad evacuare a scapparsene con la forza oppure no a me sembra di poterlo completamente escludere non escludere però il fatto che qualcuno di loro potesse eventualmente provarlo in futuro in ogni caso la situazione adesso è totalmente di stallo perfetto così qualcosa da aggiungere Fabri no mi sembra chiarissimo come l'ha detta il nostro Steinman da Luansk io so che tra poco potremo vedere e ascoltare la dichiarazione della Premier di Stoccolma che come si sa ha annunciato dopo la riunione del suo partito il Partito Socialdemocratico ha annunciato la decisione concordata all'interno appunto del partito di governo di chiedere appunto ufficialmente domani l'adesione alla Nato e la Henderson quando è possibile lo vediamo lo vediamo senz'altro è in APTN così no allora niente ovviamente nei tempi tecnici in cui potremo mostreremo questa presa di posizione perché l'abbiamo già detto questo doppio passaggio in 24 ore praticamente l'una dall'altra della Finlandia e della Svezia è l'elemento che sposta gli equilibri anche rispetto a questa guerra perché isola ancora di più la Russia e anche il teatro di guerra che a questo punto è circondato possiamo vedere una cartina ampia quella dove ci sono anche le tre repubbliche baltiche che si vede sotto la Turchia praticamente questa non è quella ampia è quella che ci mostra il teatro di guerra ma se vediamo praticamente a questo punto attorno all'Ucraina eccettuata la Bielorussia salendo per la Finlandia la Svezia le tre repubbliche baltiche la Polonia e scendendo immaginate là sotto nella parte meridionale del Mar Nero la Turchia praticamente il territorio è tutto delimitato da paesi che aderiscono alla Nato e questo è evidentemente un elemento importante ed è cambiato un elemento di cambiamento forte nella nella carta geografica dell'Europa come se si stesse realizzando il sogno che fu di un maresciallo polacco il maresciallo Pilsudski che peraltro si distinse in una guerra molto particolare avvenuta al termine della prima guerra mondiale in cui poi si verificò il cosiddetto miracolo della Vistola quando i polacchi furono capaci di resistere all'avanzata dei sovietici il suo sogno era quello di circondare la Russia da un mare all'altro cioè dal Mar Baltico al Mar Nero per contenerla quindi un contenimento antelitteram che precede quello statunitense avvenuto dopo la guerra fredda prima ancora per metà del continente e dopo la seconda dopo la guerra fredda pardon fino alle pendici del confini mettiamoli così in modo poetico dei confini russi all'epoca Pilsudski aveva in testa proprio questo che con un latinorum un po' maccheronico era stato definito intermarium che proprio tra il Baltico e il Mar Nero e adesso non c'è nulla che impedisca questa realizzazione se non due passaggi la Bielorussia che possiamo però considerare dentro la federazione russa esattamente come una provincia e l'Ucraina che è il luogo in cui si svolge la guerra insomma non siamo lontani dall'idea che aveva in testa Pilsudski e siamo lontani dall'idea di Putin che scambia le cause per gli effetti vedendo questa situazione nel senso che un intervento in Ucraina avrebbe avuto senso se ci fosse stata prima l'adesione della Finlandia e della Svezia dal suo punto di vista direttore un intervento avrebbe avuto senso se si fosse risolto brevissimamente con una grande vittoria e magari con poco spargimento di sangue soprattutto tra la popolazione anestetizzando anche le reazioni internazionali il fatto compiuto uno, due massimo tre settimane enorme dimostrazione di forza russa terrore fra gli interlocutori di Mosca terrore dentro l'Ucraina dateci tutto ciò che vogliamo questo era l'obiettivo se in un'operazione del genere superi un tempo complesso come quello che si sta superando adesso i rischi diventano giganteschi in termini di armamenti che arrivano alla popolazione che eroicamente resiste per quanto riguarda il sostegno finanziario che l'Occidente soltanto l'Occidente ma l'Occidente è la parte più benestante del mondo sta garantendo all'Ucraina eccetera eccetera per non parlare neanche della guerra di propaganda che è sempre solo in Occidente ma è straperso del resto del mondo no abbiamo raccontato molte volte noi qui come ci siano larghe fasce di popolazione mondiale vicine alla causa russa per ragioni un po' complesse basta prendere indiani e cinesi che insieme fanno quasi 3 miliardi di persone ma l'operazione russa doveva basarsi inevitabilmente come quasi tutte le guerre ma questa in particolare sul lampo sulla velocità a quel punto potrebbe essere una vittoria come si sta prolungando già adesso è complicatissima da portare a termine come l'aveva immaginata Mosca sì vediamo questa notizia soltanto Ria Novosti sette americani che hanno partecipato alle battaglie dalla parte di Kiev sono stati uccisi a Rubich Noye ha detto l'assistente del capo della Cecenia e ha mostrato i documenti di uno di loro e qui c'è il filmato che li documenta il fatto che ci siano sette americani non sorprende sicuramente si sa che esistono e alcuni sono stati anche mostrati a volte i volontari internazionali la brigata internazionale sono arrivati dalla parte di Leopoli ce ne sono più di sette diciamo così sì ecco sicuramente sono più di sette vi dicevo della però non sappiamo attenzione se questa sia una notizia vera non abbiamo idea che siano dire che sette cittadini americani sono stati fatti prigionieri è una notizia di grande valore attenzione che comunque saranno evidentemente poi non sappiamo se sia vera vediamo allora quello che è il passaggio ufficiale la dichiarazione della premier di Stoccolma Anderson riguardo all'adesione appunto che è stata votata dal partito sociale democratico il partito di governo di adesione della Svezia alla Nato oggi i social democratici sono arrivati alla conclusione che la Svezia dovrebbe entrare a far parte della Nato la nostra non allineamento militare di 200 anni fa parte della nostra storia però comunque andremo avanti l'invasione non provocata della Russia dall'Ucraina non è accettabile e mette a repentaglio la sicurezza della Svezia stiamo ora fronteggiando un cambiamento importante nell'ambiente in Europa e quando navighiamo in questa nuova situazione la domanda principale per noi è come possiamo proteggere al meglio la Svezia il Cremlino ha mostrato che sono pronti a usare la violenza per ottenere gli obiettivi politici e che non esitano a prendersi dei rischi quindi fanno richieste inaccettabili vogliono sottomettere vicini pacifici e democratici compresi la Svezia e oltretutto la nostra sicurezza è fortemente collegata alla sicurezza dei nostri vicini la Svezia dal punto di vista militare non è allineata ma non siamo neutrali non lo siamo da tanto anni costruiamo la nostra sicurezza sulla politica della solidarietà cooperazione con altri paesi per noi è importante il nostro rapporto speciale con la Finlandia tenendo questo a mente la nostra conclusione che essendo membro della Nato come membro della Nato la Svezia sarà più sicura e contribuirà alla sicurezza all'interno della Nato la Svezia contribuirà alla sicurezza il partito social democratico sosterrà la domanda di adesione alla Nato insieme alla Finlandia allora queste le notizie fino a questo momento dobbiamo assolutamente andare in pubblicità poi la parte finale sì come sempre accade durante la pubblicità compulsiamo tutti ovviamente gli strumenti informativi a nostra disposizione le agenzie di stampa sentiamo gli inviati guardiamo i siti delle principali fonti di informazione internazionale e possiamo dire che a farla da padrona è comunque la questione Svezia e Finlandia e poi ci sono le notizie al campo come questa ma questa arriva ancora una volta dai dalle agenzie russe questa penso sia Rianovosti vedete che infatti ex militari britannici bloccati ad Azovstal riferiscono i media ora si sapeva si sa che ci sono abbiamo sempre detto è tutto possibile non possiamo dire se sia vero ma è certamente possibile però si è sempre detto c'era un contingente di volontari internazionali che si trovava non solo questo è certo i russi hanno nelle loro mani tre cittadini britannici questo confermato da Londra quindi che poi adesso ce ne siano altri intrappolati dentro la caglieria non lo sappiamo però è possibile non possiamo dire che sia vero ma non possiamo neppure dire che è incredibile e impossibile questo no abbiamo già raccontato più volte come ci sia una brigata internazionale composta da volontari anzitutto e specialmente occidentali che è composta da migliaia di persone difficilissimo dire quante le stime variano molto 10.000 15.000 18.000 ci sarebbero 2-3.000 americani dentro chissà quanti britannici altri di quasi tutte le nazionalità occidentali insomma per questo tutto questo rende una notizia del genere come anche quella precedente riguardanti i pigionieri americani certo 7 sarebbe un numero davvero consistente tutto questo dicevo rende consistente anche se probabilmente come dire combattevano insieme quindi catturato un gruppo vorrebbe dire catturato un gruppo intero per questo dicevo tutto questo ci fa dire che si tratta di notizie che non nessuno ne parla esatto che non sappiamo verificare ma che non sono impossibili possono essere non vere ma non impossibili no come quella di fonte di fonte britannica secondo la quale la russia potrebbe aver perso un terzo delle truppe che ha mandato in ucraina appunto essendo un un rapporto che arriva dalle fonti britanniche è ovviamente tutto da probabilmente gonfiato però anche qui dicevo poco fa non credo siamo molto distanti alla realtà un terzo è veramente un numero gigantesco ma le perdite russe sono molto ingenti quando uno stato organizza un'operazione militare speciale cioè non la vuole nemmeno chiamare guerra vuole raccontarla come qualcosa di veloce e indolore si ritrova dopo quasi tre mesi a trasmettere in televisione negli incontri tra Putin e i genitori a volte anche militari che hanno perso figli in guerra vuol dire che il numero è talmente ingente nelle perdite che tanto vale raccontarlo un po' quello che diceva che è un po' quello che diceva anche lei 120.000 soldati impegnati nella campagna d'Ucraina anche qualcosa di più vuol dire aver perso 40.000 anche qualcosa di più perché le stive dicevano 170.000 180.000 uomini all'inizio fossimo ad un terzo sarebbe un numero gigantesco gigantesco per una guerra così non gigantesco in assoluto nelle guerre per una guerra così sarebbe un numero gigante in 80 giorni stiamo parlando la questione è anche l'ambito di tempo la Russia ha perso e questo è certo un intero battaglione pochi giorni fa soltanto per attraversare il fiume quindi siamo in pieno Donbass dopo aver creato un ponte di fortuna ed essere stata bombardata dagli ucraini è vero che non sappiamo quale sia il bilancio dell'affondamento della Moskva e lì potrebbe essere molto ingente ovviamente il numero l'intelligenza militare britannica e statunitense considerano almeno due terzi dell'equipaggio perduto in quell'occasione la Russia per ora ha fermato a 27 caduti quelli della Moskva è inevitabile che lì il numero certamente sia più alto che ne dice Steinman penso che dal mio punto di vista è veramente impossibile fare un calcolo sui numeri effettivi sulle perdite effettive perché sicuramente da qui se ci sono dei numeri importanti non vengono visti non me li fanno vedere quello che posso dire per esempio rispetto al al bombardamento alle grandi perdite che citava Fabri prima che appunto ci sono state circa due giorni fa nel Donbass in cui nell'attraversamento di un guado di un fiume sono stati colpiti sarebbero stati colpiti circa 110 mezzi militari russi proprio in occasione di questa famosa di questo famoso spostamento massiccio di cui abbiamo ampiamente parlato che prevede appunto lo spostamento stesso di tanti mezzi dal nord verso questa regione ecco da questo punto di vista posso dire che gli ucraini stanno inevitabilmente cercando in questo momento qui nel Donbass di interrompere i canali di comunicazione stradali tra una città e l'altra proprio per evitare che questo spostamento massiccio di soldati di mezzi militari possa venire con successo e che quindi i russi poi possano collocare e dislocare i propri mezzi in posizioni strategiche per poi attaccare le città di cui che citavamo appunto prima a Severodaniec di Zichansk e Slavyansk quindi sicuramente in parte da parte ucrina sono stati colpiti degli obiettivi quanto poi questo riuscirà e riesca a influire sulla strategia generale dei russi è molto difficile a dire certamente però le immagini che abbiamo visto di oltre cento mezzi distrutti sono un colpo inevitabilmente anche per per il morale dei soldati che vedono queste fotografie questo senso ombra di dubbio Certo non c'è non c'è alcun dubbio vorrei vorrei cercare di interpellare anche se possibile Paola Mascioli da Odessa e Paola io vorrei chiedere a te se lì da parte ucraina si parla di numeri di perdite si parla di bilancio della guerra fino a questo momento tu giustamente compulsi i tuoi appunti che essendo nel 2022 sono sullo smartphone certo su live questo è un documento del ministero della difesa però dà dei numeri un po' diversi sulle vittime non coincidono però c'è tutto un elenco di tutti i mezzi che sono stati distrutti ed è un un elenco molto molto lungo perché parla di 1220 carri armati veicoli corazzati da combattimento 2958 sistemi di artiglieria 555 e mezzi di difesa aereo 89 insomma questo è è uscito proprio mentre ne stavamo parlando l'ha diffuso il ministero della difesa però c'è una cosa che non mi torna anche per i numeri che stavate dando voi che è proprio quello relativo alle vittime perché parla di 27400 questo è un numero che però è verosimile sono 27400 secondo secondo quanto dice Kiev i soldati comunque i militari russi che sono caduti durante questi 81 giorni di guerra che vorrebbe dire che la forza totale era di circa 90.000 uomini se è giusta la stima britannica oppure non è giusta la stima britannica diciamocelo molto francamente già la perdita di 27.000 la stima ucraina è gonfiata inevitabilmente siamo in propaganda di guerra quindi comunque in ogni caso però stiamo parlando di perdite non irrilevanti tenete conto che questo è il problema di chi vince la guerra anche perché noi siamo abituati a considerare le guerre come le abbiamo studiate sui libri di storia vince chi alla fine costringe l'avversario alla resa cade il regime di quel paese che perde la guerra tutte quelle cose che sappiamo qui ci troviamo in una situazione molto più ambigua molto più equilibrata ogni giorno apparentemente più equilibrata in cui stabilire chi avrà vinto la guerra non è esercizio banale sentiamo Stoltenberg proprio in questa giornata il segretario generale della Nato che ha parlato anche di questo benvenuti a questa conferenza stampa che segue l'incontro dei ministri degli esteri Nato c'è il segretario generale della Nato che è in remoto da Bruxelles e il ministro degli esteri tedesco qui a Berlino buon pomeriggio abbiamo appena terminato il nostro primo incontro informale ministeriale purtroppo non sono potuto essere lì di persona a causa del Covid ma vorrei iniziare ringraziandovi ringraziandoti Anna Lena per aver organizzato questo incontro tra ministri un incontro molto proficuo la Germania è un grande fautore un grande difensore del legame transatlantico è questo bivio per quanto riguarda la sicurezza è più importante che mai che l'Europa e l'America del Nord stiano ancora unite ieri sera la Finlandia e la Svezia hanno aggiornato i ministri circa le loro possibili domande di adesione alla Nato sta a loro decidere se vogliono entrare a far parte della Nato noi rispetteremo qualsiasi decisione prendano perché tutti i paesi sovrani hanno il diritto di scegliere il proprio percorso la Finlandia e la Svezia sono partner molto importanti per la Nato se decidessero di presentare domanda sarebbe un momento storico il loro ingresso nella Nato aumenterebbe la nostra sicurezza condivisa e noi vogliamo dire loro che le porte della Nato sono aperte e si è visto che l'aggressione non paga oggi gli alleati hanno discusso il nostro sostegno a favore dell'Ucraino in più la forza della difesa della Nato e la presenza lungo il confine e la nostra posizione nei confronti della Russia anche in futuro la guerra della Russia in Ucraina non sta andando come è previsto da Mosca hanno fallito nel loro tentativo di catturare Kiev si stanno ritirando da Kharkiv l'offensiva principale nel Donbass ha raggiunto un momento di stallo la Russia non sta ottenendo gli obiettivi strategici prefissati il presidente Putin vuole sconfiggere l'Ucraina vuole sconfiggere la Nato e vuole dividere il Nord America e l'Europa ma l'Ucraina si frappone tra la Russia e questo obiettivo l'Europa e il Nord America sono unite la Nato è forte l'Ucraina può vincere questa guerra gli ucraini stanno coraggiosamente difendendo la madre patria per aiutarli a fare ciò gli alleati hanno garantito e fornito i sistemi di sicurezza agli ucraini del valore di miliardi di dollari nel corso degli anni la Nato e gli alleati hanno addestrato decine di migliaia di soldati ucraini tutto ciò sta facendo una vera differenza la vera differenza sul campo di battaglia ogni giorno dobbiamo continuare ad aumentare e garantire il sostegno militare l'Ucraina e aiutare anche il gruppo a favore dell'Ucraina dei donatori che si è incontrato di recente a Rammstein lavoreremo anche in vista del vertice di Madrid in cui prenderemo decisioni importanti che riguardano anche la deterrenza la capacità deterrente e vorremmo coinvolgere altri partner che la pensano come noi sia vicini che lontani per portare avanti il concetto di competizione strategica Così parlò Stoltenberg e so che da Odessa Paola Mascioli ha notizie che in realtà ha attinto da altre fonti riguardo alla presenza di movimenti del fronte navale Allora guarda io stavo vi ho anche mandato questo tweet perché ci sono due foto messe a confronto due foto satellitari è l'account di un analista che compara il porto di Novorossisk che si trova sempre nel Mar Nero ma nella parte est a distanza di pochi giorni c'erano diverse navi da sbarco e forse anche un sottomarino e oggi questi moli sono vuoti quindi è evidente che queste navi lui scrive c'è da capire da trovare maggiori informazioni però la foto di oggi mostra che non ci sono più queste navi e neanche questo sottomarino classe Kilo spero si pronunci così che poi sarebbero i sottomarini che sono stati che si sostiene che siano a largo della regione di Odessa e ce ne dovrebbero essere quattro di questi due scusate con quattro missili ciascuno a largo delle coste della regione di Odessa questa è proprio l'ultima cosa che ho trovato spulciando un po' tra questi siti di specialisti di comparazioni di foto satellitari che tengono tutto sotto controllo se fosse così si sarebbero mosse parecchie navi sì e per cosa per uno sbarco utilizzando battaglioni di fanteria di marina questo è questo è tutto da capire per andare dove ci devono essere altre immagini satellitari visto che questa avete letto è scritto OSINT quindi è semplicemente intelligenza da fonte aperta cioè ciò che si può compulsare come ama dire lei liberamente ci dovrebbero essere altre immagini satellitari prima o poi evidentemente che attestano il loro arrivo da qualche parte insomma quindi dovrebbe essere diciamo un arcano risolvibile anche in un tempo non troppo lungo non so vedremo questo questi sono elementi che dovremmo riscontrare soltanto con la realtà dei fatti nei prossimi giorni nelle prossime ore forse ma pare difficile pensare da qualche parte sono andati sì da qualche parte sono andati e peraltro fa parte della tattica di guerra anche spostare gli uomini e i mezzi bisogna vedere evidentemente a volte gli spostamenti avvengono anche per allarme di possibili attacchi attacchi altrui questa è un'altra è un'altra delle possibilità perché svuotare interamente un porto militare se non per la paura che qualcuno possa tentare non dimentichiamo che alcune delle grandi delle grandi guerre sono state segnate anche da colpi da colpi alle marine a colpi alle imbarcazioni in porto specialmente una nella seconda guerra mondiale una piuttosto alle Hawaii ecco piuttosto famosa quindi è evidente che stiamo parlando di qualcosa che sta nella storia delle guerre però qui siamo soltanto a un fatto che è stato documentato da satelliti e che è inequivocabile perché le fotografie non si taroccano si possono taroccare ma non è questo il caso e questo documento effettivamente come in maniera impeccabile la nostra Paola Mascioli ci ha segnalato che c'è qualcosa lì che potrebbe segnalarci un altro passaggio futuro immediato nei prossimi giorni o nelle prossime ore addirittura di questa guerra siamo però agli ultimi minuti allora salutiamo sia Paola Mascioli da Odessa e sia Luca Steinman da Luansk a meno che non voglia aggiungere qualcosa Steinman ma volevo soltanto aggiungere che mi interrogavo mentre sentivo quanto ci riportava Paola quali possono essere i collegamenti tra l'avanzata tra le operazioni militari russe qui nel Donbass e invece questi movimenti questi presunti movimenti navali che invece ci sono nel sud del paese ecco penso sia importante cercare di capire questi i collegamenti e gli equilibri che ci sono tra questi che sono di fatto i due fronti aperti che è la Russia in Ucraina in questo momento il fronte sud e il fronte del Donbass ecco secondo me è molto interessante da seguire sì peraltro Novorossi va a impattare su quella parte che non è lontanissima dal Donbass che è anche sopra come sappiamo sotto Kerson anche sotto Odessa ovviamente ma anche più a est di Odessa potrebbe beh siamo nel territorio di Krasnodar è il principale porto russo sul Mar Nero che poi indica quella nuova Russia se noi vediamo dove può colpire il Mar Nero cioè immaginando che non vogliano invadere la Turchia la porzione che può essere interessata a un'azione dal mare dal Mar Nero è quella che sta tra il confine rumeno e quindi sotto Odessa Odessa e poi si arriva fino si può arrivare fino alla zona di Kerson però non si va più in là bisogna vedere se le opzioni possono essere tre o stanno come diceva anche lei perché è una delle opzioni sebbene oggi quella più audace o stanno organizzando uno sbarco anfibio nel territorio che lei ha appena descritto o vanno a rinsaldare posizioni di cui già dispongono che può essere per intenderci chissà pericolosi avvertimenti riguardanti la Crimea oppure la stessa parte del mare d'Azov che possiedono o anche l'isolotto dei Serpenti anche se i mezzi sarebbero troppi soltanto per quello oppure sempre come è stato contemplato poco fa perché c'è stata una soffia dato impossibile attacco sulle imbarcazioni sui mezzi sui navigli russi che sono all'ancora tanto vale spostarli insomma le opzioni sono tre da qualche parte sono andati lo scopriremo non solo vivendo come cantava scritto da Mogolli Lucio Battisti ma anche soltanto nelle prossime ore possiamo dire l'unica cosa che possiamo dare per sicuro è che non ci saranno battaglie navali perché non è più l'epoca delle battaglie navali da quando i missili hanno preso il sopravvento le battaglie navali credo che ci saranno ancora in futuro non mi pare questa l'occasione e neanche il Mar Nero il teatro possibile e comunque scopriremo quello che succede senza citare la storica coppia già se volete domani alle 17 con i nostri inviati ma già tra 5 minuti con Francesca Fanuele avrete tutte le notizie del telegiornale a domani